cari amici benvenuti alla diciannovesima puntata del positive cast anche oggi un'altra persona straordinaria un ragazzo che a soli 33 anni è riuscito a vivere già 4 5 6 10 vite è stato giornalista è stato assessore è stato ha partecipato a documentari per le moto ha fatto un sacco di esperienza musica mare di cose che adesso scopriremo insieme e avremo l'onore di ascoltare un ragazzo con dei valori sani con diciamo le azioni più sani ancora dei valori che lo contraddistinguono che dire vi presento il dottor Emanuele Macaluso ciao Giuseppe ciao a tutti coloro che ci seguono da casa grazie perché è un grande piacere una bellissima occasione potersi esprimere e raccontarsi in questo positive cast bellissimo mi fa un immenso piacere abbiamo dato tanto hype nella tua presentazione adesso è bene diciamo prima di immergersi nella conversazione se riesci a dare un poco di background di chi sei che cosa fai così i nostri amici riusciranno a conoscerti un poco di più e poi insomma la nostra conversazione gli racconterà tutto il resto io sono Emanuele sono nato qui a Ribera come detto tu 33 anni e ho vissuto sì diciamo varie vite nel senso che comunque ho vissuto vissuto fuori ho fatto tante esperienze mi sono laureato in scienza della comunicazione alla fine del mio percorso di studi perché all'inizio avevo avevo iniziato con ingegneria meccanica perché c'è sempre la mia passione per i motori però non ho mai avuto la stessa passione per la matematica assolutamente no quindi ci ho provato in tutti i modi ma niente credo sia una cosa naturale quindi ho dovuto abbandonare però questo è stato un bene perché alla fine se da un lato il mio obiettivo era quello di raggiungere i motori per raccontarli o comunque per dare una mia contributo passare il tempo in quell'ambito socialmente in maniera comunque professionale ricordo che quando uscivamo dall'aula di segno tecnico industriale a modena che fuori fuori dall'aula nel corridoio c'era il motore un v12 della formula 1 del del 99 già questo ti faceva capire in che ambiente eri purtroppo però non ho mai potuto toccarlo dal vivo ma mi sono ritrovato in ferrari qualche anno dopo come giornalista quindi alla fine che il mio obiettivo era quello proprio di arrivare a raccontare motori in maniera professionale ok magari non l'ho fatto con il titolo di ingegnere però comunque l'ho potuto fare dal lato più ludico diciamo è vero quello del dell'intrattenitore grazie al mondo del giornalismo mi ricordo anche collaborazioni eccelse con gazzetta dello sport la gazzetta è stata l'ultima l'ultima arrivata perché poi il passaggio del team che avevamo a roma perché noi siamo io sono nato con l'allora mega network che si chiamava blog o che era un network pensato in grande negli anni all'inizio degli anni 2000 che ha avuto una crescita fantastica racchiudeva davvero una grande community una grande community sia di lettori ma anche di blogger perché si parlava ancora comunque di blog prima che diventassimo tutti magazine quindi da lì poi purtroppo un fallimento della della società e noi del team di roma siamo passati poi a milano con gazzetta dello sport e quindi il mio allora capo e collega con il quale comunque sono ancora in contatto è diventato il direttore dei gazzetta motori e continuo comunque a collaborare con loro l'ultimo testo l'ho fatto saluto saluto tutti loro perché mi hanno dato un grandissimo una grandissima mano d'aiuto a crescere sotto tantissimi ambiti perché comunque non è che mi ritrovavo lì solo a scrivere ma anche a produrre registrare certo c'era un lavoro a tutto tondo non era solamente quello del giornalista però c'era anche diciamo il background dell'editor dell'editing cioè di tutte queste altre diciamo sfaccettature ho imparato a fare le foto a comunque modificare quindi editare le foto la stessa cosa per i video rispetto alla cronaca ovviamente il motociclismo ha un budget minore quindi ci porta a dover essere più crafty per poter dare dei contenuti di qualità importanti che possano essere chiamati tali o no diciamo che questo è quello che però poi mi ha spinto a ritornare perché vuoi o non vuoi come dici tu il budget è sempre limitato è stato pure il periodo dove cominciavano a nascere i primi influencer ah certo quindi si è spostata l'attenzione non più diciamo sui motori ma su tutti quei youtuber eccetera le redazioni non credevano in quei contenuti perché loro volevano un contenuto più professionale cosa che adesso ovviamente sono stati costretti a passare a questo tipo di contenuti perché comunque è quello che fa più click quello che attira di più la gente quindi in quel periodo io avevo proposto questo tipo di contenuti avevo una pagina instagram che tu sei stato innovatore diciamo in questo ho provato ci ho provato purtroppo non non ho mai avuto grande fortuna con con i social quando ho provato di fare qualcosa di più spinto infatti lì sono sempre convinto che ci sia qualche algoritmo di zaken perché che ce l'ha con me ovunque non riesco non riesco ad ottenere i risultati che invece magari qualcun altro a prova fatta a prova fatta qualcun altro raggiunge dei risultati assurdi pur non avendo le stesse esperienze che ho avuto io ti parlano ha detto dei lavori ossia un creatore di contenuti secondo me la differenza sta diciamo principalmente nel piacere a creare questi contenuti perché il piacere ti porta a renderlo sostenibile se non ti piace una cosa difficilmente la fai seconda cosa nel tempo sicuramente diciamo l'impegno e il duro lavoro e diciamo anche l'idea qualitativamente lanciata se diciamo il mercato l'accetta sicuramente nel tempo arriveranno quello i riscontri dov'è che ti voglio dire sicuramente diciamo magari questo piacere per il contenuto non c'è stato più o magari diciamo sono venute nuove opportunità differenti rispetto a prima quello sì quello assolutamente perché come dicevo poi lì c'è stato un cambiamento un cambiamento legato principalmente a una forma di riscatto personale nel senso la paga di allora per un articolo un post del blog è scritto così dalla mia scrivania io passavo giornate intere seduto a scrivere e poi settimane intere dove capitava anche di dover prendere fino a cinque aerei in una settimana in giro in giro per l'europa perché era il periodo dei test quindi se per un post ti pagavano allora 6 7 euro a post ovviamente poteva andar bene perché comunque erano post dove tu scrivevi scrivevi poco c'era non determinato il numero di parole era in ottica seo quindi dovevano essere indicizzati quindi non avevi più quella cosa che potevi degli schemi da dover seguire dove invece mi spizzarrivo era nella parte dei test quindi soprattutto nella parte dove raccontavo come andava quel mezzo con l'auto con la moto allora lì potevo cercare di sembra blog o anche a video e allora nell'ultimo periodo giustamente la redazione ha capito che bisognava darsi da fare anche su youtube forse ci dovrebbe essere qualche video purtroppo youtube è stata la scelta più sbagliata di allora di blog di abbandonarlo hanno abbandonato youtube per una piattaforma che tuttora io ho perso un sacco di miei video perché giustamente su youtube li puoi trovare tranquillamente anche dopo vent'anni certo e questa piattaforma era non funzionava benissimo sui sui telefoni già c'erano gli smartphone quindi dovevi per forza avere qualcosa di pratico che potevi utilizzare sullo smartphone quindi in alcuni browser non funzionava è stata la scelta proprio una delle peggiori scelte che si che la redazione ha potuto fare quindi quando si vendono poi diciamo delle scelte economiche magari sono stato pagato un contratto diciamo anticipatamente tra l'altro avevano investito tantissimo anche nella qualità perché avevamo un bellissimo team quindi non era più Emanuele preso dalla strada che doveva fare dei video una cosa assurda perché davvero avevamo un colpo sulle palle veramente in quel caso sì perché comunque il team video che c'era con cameraman e professionista che aveva una grandissima esperienza sicuramente attrezzatura di altissima ultimissima qualità ricordo ancora la foto di una mv agusta brutale sulla quale abbiamo installato sette action cam per fare tra i nostri collaboratori c'erano degli stuntman ma quello 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 più più con il quale eravamo più affiatati era Emanuele Freddo che è uno degli stuntman più più famosi d'Italia anche a livello cinematografico Emanuele collaborava sempre con noi e allora su questa moto abbiamo messo sette telecamere la moto l'abbiamo maltrattata ma giustamente andava raccontata per quella che era il contenuto però avuto il suo si quello si perché è stato quello è stato uno dei video più più belli che abbiamo realizzato anche se eravamo ancora alle prime armi però nessuno metteva sette action cam su una moto per fare delle delle acrobazie così quindi ti dico peccato per questa loro scelta e cosa che poi ovviamente un domani hanno hanno dovuto completamente abbandonare la società è fallita quindi si è passato d'altro fortunatamente però su gazzetta poi il team si è spostato a milano e avendo sempre base a roma e la qualità quell'affiatamento è rimasto io come ti dicevo dopo un tot di anni non ero più il ragazzino quindi lo stagista certo e quindi quindi mi aspettavo un ritorno diciamo economico mi aspettavo che comunque dai dalle alte sfere questa cosa questa cosa si venisse recepita invece invece no e lì ti rendi conto che purtroppo c'è 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 ancora una mentalità che va più sulla convenienza che sulla qualità ora spero non sia non sia ancora così perché comunque mi veniva detto e ma sai quante gente c'è dietro la porta che farebbe questo lavoro gratis al posto tuo d'accordo ma vai a prendere un ragazzo dal nulla già formato già con determinate cioè io non ti sto chiedendo io parlo ancora dei tempi io quello che avrei detto diciamo è che il numero di audience è minore rispetto a quello del calcio e quindi ovviamente dobbiamo dedicare minore minori risorse questo diciamo come mi immagino io la risposta piuttosto che dire uno dietro la porta c'è no invece invece c'erano cioè non non capivano questo per questo molte volte lì capisci che ci sono persone sbagliate al posto sbagliato perché solo perché sono purtroppo non è una cosa solo siciliana perché comunque questa redazione era a milano e lì ho capito che comunque in qualsiasi grossa azienda c'è la mentalità dell'amico dell'amico ma sai c'è praticamente un grande imprenditore non ricordo il nome forse alex ormosi che dice una cosa interessante la regola 80 20 che l'80 per cento del lavoro viene fatto al 20 per cento delle risorse cioè quindi questo qua è una verissima per come stai dicendo tu verissima realtà diciamo che si viene a riprodurre questo questo è un po ovunque perché vuoi non vuoi duro doverlo ammettere ma è una caratteristica degli italiani ma è una caratteristica degli italiani sì però diciamo ormai per come sta andando veloce il business sicuramente opportunità più ibride che diciamo riescono repentinamente a cambiare se diciamo versione quindi non essere così statici come magari lo erano lì in gazzetta o blog dove ti dicevano no devi scrivere in questa maniera deve fare così magari ci sono altre realtà che ti permettono di sperimentare un poco di più e quindi diciamo essere resti a questi cambiamenti soprattutto quelle guidate dai giovani appunto perché lì c'era un maggiore efficientamento un maggiore diciamo una idea fresca diciamo gente che viene da esperienza all'estero e che quindi vuole davvero staccarsi dai canoni del passato dei vecchi dirigenti che come ti dicevo sì dobbiamo far lavorare l'amico dell'amico perché semplicemente è un amico queste sono fortunatamente mi sembra che un po già è da un po di tempo se questa questa mentalità cominci ad essere abbandonata ormai diciamo siamo in una società del risultato non del della dell'amicizia e quindi il network più grande che tu fai e con i contenuti di qualità con gli amici che ti hanno fatto quel favore purtroppo sì sì quello perché diciamo qual è la differenza che prima la stampa comunque o blog ce n'erano pochi perché c'erano poche persone avevano determinate risorse o erano anche diciamo culturalmente ad un determinato livello da poter creare nuovi contenuti ad oggi invece con la massa di persone che sono andate all'università e quindi la maggior il maggior numero di laureati che fa diciamo presagire una cultura media maggiore e la facilità diciamo anche degli strumenti dell'hardware ormai anche con un cellulare noi possiamo essere diciamo nuovi e quando ce ne sono tiktoker oggi che creano contenuti clamorosi quindi sicuramente diciamo ovviamente questo sistema deve crollare questo sistema diciamo dell'amico questo sistema del si fanno le cose così e basta cioè è una cosa che già è crollata come dici bene tu e andremo verso nuovi orizzonti ce lo auguriamo tutti bellissimi e collaborative va senza dubbio quello quello ce lo auguriamo tutti arriviamo ora invece giorni nostri un poco prima di questi giorni nostri un poco prima dei giorni quindi il mio rientro subito dopo la laurea in scienza della comunicazione comunque ho voluto un po mettere da parte quel quel mondo per tornare qui a ribera dove avevo l'azienda agricola di famiglia già 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 avviata da tempo che si era oltretutto appena trasformata in biologico quindi era un'opportunità da da cogliere io comunque sono sempre stato legato alla terra per per tradizione insomma tramite tramite i miei nonni frequentavo spesso frequentavo spesso la campagna quindi è stata una bellissima una bellissima una bellissima opportunità e da lì abbiamo insieme a mio cugino deciso di aprire un e-commerce e quindi lanciarci nel nel mondo di svecchiare l'azienda lì e-commerce già a ribera esistevano esistevano da un po noi dal lato nostro abbiamo il biologico anche nel mondo della creazione quello 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 sì infatti comunque soprattutto all'inizio sono arrivati clienti quasi dal nulla nella parte iniziale quella sempre più bella però più dolorosa perché comunque ti rendi conto che ci sono tantissime spese che i clienti vanno comunque educati perché questa questa cosa me ne sto rendendo conto e oggi più di prima perché la differenza che sto vedendo rispetto a sei sette anni fa quando siamo partiti che praticamente i clienti erano quasi tutti consapevoli che stavano acquistando perché come come sapete qui a ribera alla fine si 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 vende tutto online tramite cassette di cartone confezionate prodotto selezionato meno poi in base al lavoro che ogni azienda fa al prezzo anche pagato certo c'è poi il corriere cioè non è che siamo noi c'è il corriere che purtroppo è il nostro tramite molti non capiscono questo che comunque del materiale deperibile si fa fa tutta questa questa strada per arrivare da ribera a milano torino insomma destinazioni molto lontane passano dei giorni non è come acquistare la frutta dal fruttivendolo certo quindi il fatto che la frutta arriva un po e la scatola arriva un po ammaccata rovinata questa cosa non tutti la capiscono ti dicono sì ma io dal fruttivendolo la prendo sì d'accordo magari la vedi più bella ma quanti giorni ha quell'arancia quella quel limone insomma qualsiasi tipo di frutta per essere lì io te la raccolgo il giorno prima anche se un po rovinata stai acquistando un prodotto biologico certificato e le nostre sono certificate quindi questo per dirti che purtroppo oggi mi rendo conto che piattaforme come amazon o altre assolutamente il mercato è spietato mettiamola così ma tutti pensano di acquistare su quelle piattaforme quindi magari ti chiedono il rimborso per un prodotto che molte volte noi facciamo anche se il corriere che rovina quella scatola non è colpa nostra però pur di mantenere il cliente lo facciamo rimettendoci sempre io pochissimi rimborso ho ricevuto dai corrieri che tra l'altro poi non solo ti fanno il contratto poi ti dicono eh ma nel contratto c'è messo che non puoi spedire merce deperibile allora come fai a farmi il contratto certo certo a loro a loro conviene ma purtroppo ognuno tira la corda diciamo dalla propria parte purtroppo diciamo con dei numeri ristretti che non siano grandissimi è difficile andare a bussare le porte e dire fratello facciamo come dico io quello sì e comunque con questo questo problema che tu hai diciamo ce l'hanno anche tantissimi altri una cosa importante potrebbe essere una piattaforma di invio con diciamo una sorta di sindacato dei produttori per andare a parlare con le con questi spedizionieri e dire ragazzi guarda mia va bene sì facciamo tutte spedizioni in tutti anni quindi dobbiamo trovare un punto d'incontro questa cosa qualche anno fa qualcuno aveva iniziato a lavorarci purtroppo a quanto pare dai corrieri questa risposta non è arrivata e ce ne rendiamo conto tutt'oggi perché per esempio io spedisco con un noto marchio che fa dei grossi numeri ma questi vengono a ritirare col furgoncino ma se solo da me viene a caricare 50 pacchi e poi devi farti altre 10 aziende come fai col furgoncino? cioè questa cosa per dirti che loro non capiscono che il mercato che c'è a Ribera che è così grande che tu il lunedì e il martedì tu corriere devi mandare un tir dove loro satelliti poi vadano a scaricare di ora in ora così da consentire a tutti di poter spedire invece no molti restano a terra questa potrebbe essere diciamo un'altra battaglia da combattere questa cosa non la capiscono nei giorni avanti oltretutto si paga la spedizione si paga un sacco di soldi e questa cosa giustamente un acquirente che va a farsi due conti in tasca e vedere che molte volte se compri solo 12 kg di arance paghi di più la spedizione che le arance ma non si può fare altrimenti perché i costi sono aumentati sicuramente il mercato è spietato però diciamo quello che c'è da poter fare è trovare soluzioni diciamo nuove a problemi vecchi al fine di poter quello sempre cercare di insomma soluzionare questi problemi un po' da positive coach diciamo ogni volta che vedo il problema non mi posso fermare lì bisogna cercare diciamo a internalizzarlo ma devo dare qualche nuova soluzione la soluzione era quella delle piattaforme un'altra soluzione può essere non lo so creare delle piattaforme di distribuzione sempre insieme a delle altre persone lì in altri territori magari dove poi viene più vicino lo smercio non lo so cioè ce ne sono tante cose però secondo me queste qua sono riunioni che dovremmo fare insieme a un collettivo diciamo di spedizionieri al fine di poter dare un vantaggio qualche altra esperienza oltre a questa lavorativa ce l'ho avuta sempre nel campo dell'informazione come citavi tu all'inizio con dei documentari che avevano poco a che fare con il mondo dei motori però sono stati dei documentari che ho svolto molto vicino a mio padre e quindi nel campo dell'archeologia della subacquea grande dottor Magaluso l'unico storico di Ribera ormai possiamo dire uno dei pochi uno dei pochi sì e praticamente uno io mi sono impegnato più nella parte logistica per un grosso documentario di una nota redazione casa produttrice tedesca che è la ZDF e nel 2017 questi sono venuti per intervistare mio padre e fare un documentario sulla famosa isola Ferdinandea quindi lì io ho dato il mio supporto logistico me ne sono pentito perché purtroppo nonostante io lo ami tantissimo ma soffro il mare quindi siccome era ottobre c'era un po' di vento e quella era una delle mie ultime occasioni ma sicuramente non ne mancheranno delle altre per andare sull'isola Ferdinandea a fare una piccola immersione quel documentario è stato bellissimo è stato trasmesso online e anche sulla tv sulla tv tedesca ed è stata anche una grande esperienza formativa per me lavorare così a stretto contatto con una troupe professionale perché comunque c'erano cameramen subacquei il presentatore stesso si è posto diciamo era l'Alberto Angela tedesco sì e poi un altro documentario di diciamo un po' minore importanza più fatto in casa perché l'abbiamo proprio girato io e mio padre che però era il documentario sulla storia del Lombardo una delle navi dello sbarco dei mille poi naufragata di fronte alle isole Tremiti in Puglia e quindi abbiamo fatto questo documentario che viene poi è stato poi riprodotto nel museo di Caprera insieme a uno dei chiodi della nave del Lombardo che aveva recuperato mio padre in una delle immersioni che ha fatto lì e questo era stato patrocinato dall'allora Ministero adesso non ricordo se era quello delle attività culturali o del mare però insomma è stato anche lì un bel riconoscimento assolutamente quello sì infatti dicevamo dieci vite forse qualcuno ancora in più e ora c'è un'altra vita che sta per iniziare ora c'è un'altra vita che sta per iniziare stai per diventare papà fra le tantissime altre news quanto è live per questo nuovo evento tantissimo perché ormai non vediamo l'ora sia io che mia moglie che la mia famiglia che arrivi questa bimba che cambierà la vita la vita di tutti soprattutto il fatto comunque che sia una donna per noi è una grossa novità perché ne abbiamo poche in famiglia quindi anche tutti maschi praticamente siamo tutti maschi e quindi le mamme sono impazzite per comprare questi vestitini rosa tutte queste cose che che giustamente sono mancate finora siamo stati sempre tutti dei maschiacci in famiglia quindi siamo ormai quasi arrivati manca un mese e mezzo giustamente anche mia moglie comincia a sentire il peso dopo otto mesi e ora fra poco andremo diciamo a capire se anche questo nuovo aspetto ti ha cambiato qualche tua visione della vita ma quest'altra sicuramente diciamo parte la accantoniamo un attivino per riportarla fra poco noi siamo andati a scuola insieme abbiamo fatto le scuole medie ma ci siamo ritrovati nuovamente dopo tanto tempo che no che ci eravamo lasciati però avevamo frequentato avevamo passato meno tempo diversi meno tempo insieme adesso ci siamo ritrovati con la nostra grandissima famiglia in Ribera Knights una bellissima una bellissima realtà una grandissima opportunità per me e ringrazio veramente Manuel e tutta la squadra il king il nostro king il nostro king il nostro coach perché comunque io ho fatto ho frequentato il basket da quando avevo 6-7 anni quando c'era una bellissima squadra allora eravamo ancora alla palestra mosca era tra virgolette la novità di quel periodo io come tanti altri ricordo che ci siamo avvicinati ci siamo avvicinati con l'uscita di Space Jam e allora è stato davvero un grande boom per il basket riberese purtroppo ho abbandonato nel nel periodo più strano per la vita di ognuno di noi che è l'adolescenza quindi era il il 2003 appena iniziato avevamo messo piede quell'anno nella Berlinguer nel Palo Tordambè erano iniziate già eravamo grandicelli io avevo 12 anni 13 anni poi perché nel 2004 l'ultima volta che ho giocato avevamo appena iniziato a giocare quindi a fare le sfide con le altre squadre della Sicilia e lì ho mollato vuoi per i primi amori da adolescente vuoi perché iniziavano ad avvicinarsi i motori il mondo dei motori quindi passavo tantissimo tempo grande amore in garage a modificare le moto degli altri perché io ancora avevo 13 anni quindi non potevo non potevo guidarla non avevo ancora la mia e lì me ne sono pentito perché me ne pento oggi perché allora poi non ci pensavo più di aver lasciato il basket perché era bello sport è un bellissimo sport che comunque a Ribera ha delle bellissime radici e che oggi grazie a Ribera Knights è tornato è tornato ad essere nell'auge sì è tornato ad essere quello che ad essere considerato per quello che è per quello che merita e questo farne parte della grande famiglia come ti fa sentire io ne faccio ne faccio parte dalla diciamo dal dal background quindi dal backstage sì 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 quindi siamo siamo lato siamo noi dietro le quinte quindi con la comunicazione con le dirette con i social le interviste post partita dei video divertenti che realizziamo e questo anche grazie alla presenza di tantissimi ragazzi assolutamente che ci aiutano a salutiamo il buon Gabriele Raimondino Vincenzo e tutti gli altri è bello il vecchio Leo M Leo M e poi il nostro grande manager il buon Marco Nagieri che comunque anche lui partegge del marketing in quanto tesoriere di tutta la squadra la mia la mia scelta di mettermi a disposizione comunque dei Knights è stata è stata una scelta una cosa che è partita da me perché ovviamente non conoscevo molti tra i quali Manuel è partita quest'estate con gli OnlyFan Games che per me sono state quando si parla di sport allora io non sono uno sportivo attivo nel senso sei un gruppist dello sport sì se c'è da andare a correre magari preferisco andare a mangiare la pizza però insomma vedere correre gli altri ti piace quello sì quello sì come vedere fare attività sportiva in questo caso a secca grande mancava da tantissimo tempo qualcosa che ricordasse i vecchi giochi d'estate ai quali partecipavo allora 15enne 16enne con tantissimo entusiasmo vedere questo impegno di questi ragazzi abituati a vederli troppo spesso magari con il cellulare in mano in spiaggia o comunque già è stato diciamo uno stimolo importante per dire i sepiciotti stanno facendo una cosa importante al di là dell'organizzazione che è stata davvero fenomenale considerato che poi io li ho voluti intervistare perché ci tenevo a raccontare e a sapere prima di tutto io e poi a raccontarlo a tutta la nostra comunità di come sono nati perché comunque il pubblico oltre ai partecipanti c'era tantissimo pubblico lì ai campetti non c'era spazio per nessuno e oltre al fatto che c'erano 300 persone impegnate lì tra giocatori e staff e aver coinvolto così tante persone per me è stato davvero un qualcosa che doveva essere narrato raccontato doveva essere davvero considerato come un segno di svolta di cambiamento e il buon momenti ci dà sempre la relazione di momenti ci dà sempre l'opportunità di poter condividere queste belle che ringrazio insomma ci ha dato spazio lì ho cominciato a conoscere a conoscere Emanuele e anche gli altri ragazzi che hanno capito che lui è un grosso punto di riferimento come perché ha tantissima esperienza in vari ambiti e soprattutto la cosa che più mi ha anche un po' toccato emozionato è vedere che questi ragazzi che sono ancora studenti quindi chi ha l'ultimo anno di liceo ma anche ragazzi più piccoli sono tutti motivati da qualcosa si vede che vogliono imparare e questo mi ha portato poi ad avvicinarmi ai Knights e propormi come ha detto stampa quindi un po' il mestiere che facevo prima io in un altro ambito che in questo caso che è il basket e la cosa che mi fa piacere è comunque vedere che quello che facciamo non è fine a se stesso ma che questi ragazzi a Mark Zuckerberg non ce l'ha con i Knights come ce l'ha con Emanuele perché lì io i social non li gestisco ma li riempio quindi speriamo non si sappia che ci sono io eventualmente sappiate che non è colpa mia però sì i ragazzi possono apprendere tantissimo da noi perché no conoscere una nuova passione come può essere quella della creazione dei contenuti in questo caso infatti molte idee se non il buon 90% vengono da loro che poi vengono da me e dicono sai secondo te com'è realizzare questo quindi da noi più grandi poi arriva il suggerimento nel senso guarda fare questo ora soprattutto che viviamo nel mondo del politically correct diventa tutto un po' più difficile quindi già devi sapere come proporre ma già però l'attività che noi facciamo è politically correct nel nostro sì cioè già il Ribera Knights nascono con i valori di base che ci sono amicizia rispetto collaborazione cioè questi qua già sono politically correct tutte le altre cose sono cose interessanti attività interessanti che butteremo lì e faremo sicuramente nel rispetto di tutti certo quello assolutamente quello sempre quello sempre l'ultima esperienza prima di chiudere questa bellissima introduzione ricca che come si merita il nostro buon Emanuele con le sue dieci vite che è riuscito insomma a vivere fino adesso e quante ce ne saranno ancora nel futuro è stata quella di assessore un'altra diciamo esperienza che ti ha portato diciamo ad essere protagonista qua sul territorio come è stata questa esperienza quando è stata è stata una cosa alla quale non avevo mai pensato perché la politica l'ho sempre vista come qualcosa di lontano soprattutto dai ragazzi e quindi le ultime elezioni prima di quelle del 2020 non le ho vissute perché ero ancora fuori tra l'altro allora si candidò il mio attuale suogero che non era che non era Giovanni non era ancora non era ancora mio suogero quindi con Rosa Maria non stavamo ancora insieme però eravamo vicini ovviamente anche come famiglia alla sua persona ma non l'ho vissuta nel 2020 si presenta questa opportunità per me completamente inaspettata e si cominciavano a vociferare i nomi di coloro che dovevano essere candidati ovviamente uno dei quelli più che era più diciamo che era nell'aria già da un bel po' era quello di Matteo Ruvolo e io non lo conoscevo direttamente ovviamente conoscevo la sua famiglia e ci eravamo visti in passato e Matteo ha proposto questa cosa questa questa grossa novità a mio padre prima di tutto perché giustamente conosceva di più mio padre anche per capire se io potevo essere propenso mio padre anche lui non se lo aspettava assolutamente anzi lui era già nel periodo che qualcuno cominciava a pressarlo perché da tempo che vanno dietro alla figura di mio padre per la politica lui ha sempre detto di no sì quindi quando si è visto bussare alla porta da Matteo lui già era per dire guarda ti ringrazio come aveva già detto a tanti altri però lì anche lui si è trovato la sorpresa guarda che non sono qua per te ma per tuo figlio quindi è rimasto spiazzato questa scelta è venuta a propormela poi a casa ne abbiamo parlato all'inizio ho detto no e ho parlato con Matteo l'ho ringraziato e avevo detto di no perché comunque niente non credevo di di poter dare il tuo valore o magari non ti piaceva la politica non mi piaceva l'ambiente eccetera quando però perché praticamente con lui e con Matteo ci eravamo visti tempo prima poi sono state spostate le elezioni e quindi c'è stato ancora più tempo erano prima a maggio poi c'è stato il covid sono state a ottobre quindi sono cambiate poi un po' di cose in quel periodo c'era stata la riqualificazione del letto del fiume Verdura dove io ho un appezzamento di terreno di famiglia dove purtroppo con l'allumione nel 2018 ho perso circa 250 piante d'arancia e lì fortunatamente l'allora governo di Musumeci era intervenuto tempestivamente ripulendo il fiume quindi risistemando l'argine il letto eccetera e quell'estate era luglio 2020 c'era ovviamente una delle tante passerelle politiche per prendersi i propri meriti ed era al belvedere di Poggio Diana dove comunque improvvisava una conferenza stampa l'allora governatore Musumeci alla presenza di tanti politici e non del luogo io ho voluto di mia spontanea volontà andare a ringraziare il presidente Musumeci comunque perché quando un impegno viene preso è portato a termine in così poco tempo per i canoni burocratici che conosciamo bene in Sicilia e allora ho voluto ho chiesto a Matteo perché comunque lui come avvocato seguiva il nostro comitato di agricoltori che si era formato allora per chiedere un intervento sul fiume quindi sono andato a parlare con lui e ho detto guarda mi piacerebbe venire con te per ringraziare personalmente il presidente lì mi sono reso conto che ero l'unico ragazzo in mezzo a vecchi politici c'era veramente davvero anziana ora con tutto il rispetto per gli anziani perché davvero sono il bastone loro sono il bastone della nostra vecchiaia però ti hanno dato il clinch per dire io ero andato ero andato anche lì per dire di no definitivamente a Matteo perché lui mi ha detto pensaci allora io sono andato ti dico vabbè in macchina gli parlo io dirò di no quando poi siamo andati via da là io ho detto sinceramente guarda io sono salito in macchina per dirti di no ma invece ti dico di sì perché stasera mi sono convinto che se tu mi stai dando questa possibilità sempre che ovviamente il popolo lo vuole e riusciamo ad essere eletti io ho il piacere di poter dare il mio contributo dove arriverò poi per carità non sono chissà quale illuminare però magari proprio il non avere questa freschezza può dare un cambiamento e fortunatamente così è stato perché io insieme anche ad altri ragazzi che eravamo lì allora stati designati all'inizio come assessori siamo stati davvero il volto dell'allora cambiamento che si era inizialmente pronunciato tantissimo sui palchi e allora lì è partita una nuova avventura per me totalmente nuova con una grossa responsabilità perché comunque sei amministratore di una grossa comunità di una società che produce sui 20 20-30 milioni di euro di fatturato e quindi insomma sei manager per una parte di quella assolutamente perché comunque anche se è una cosa pubblica il comune qualsiasi comune è un'azienda quindi va lavora ovviamente diversamente perché di solito è 80-20 e qua è 99-1 quindi l'1% fa il 99 esatto in quel caso in quel caso sì e allora a quel punto ci siamo resi conto che quello che si vospettava davanti a noi per tutti era un qualcosa di davvero duro oltretutto era ancora il 2020 avevamo davanti il 2021 covid perché il covid per tutto il 2021 è durato assolutamente io ero stato inizialmente designato come vice sindaco poi per varie vicissitudini politiche vicissitudini politiche che non sto qui a spiegare o volontariamente scelto perché non avevo nessun partito politico dietro di mia spontanea volontà quindi ho ceduto il mio incarico iniziale basta insomma che lavoriamo tutti insieme per il bene comune io avevo l'assessorato allo sport spettacolo turismo e capisci bene che con il covid tutte queste cose tutto questo era fermo quindi mi sono dedicato ad altro anche se non mi se non mi non era di competenza stretta non era la mia competenza ma ho cercato di dare il mio contributo dove dove era possibile ma anche nelle piccole cose una cosa che molti ricordano è che fino a qualche tempo fa mi hanno addirittura chiamato gli amici dagli uffici per dare una mano a ripristinare alcune stampanti non funzionanti c'è una cosa che uno ci pensa ma è assurdo io vedevo degli impiegati che si alzavano dal proprio ufficio per andare in un altro ufficio in un altro plesso per stampare una cosa ma dove stai andando devo stampare una cosa perché non ce l'ho ma la tua stampante non mi funziona giustamente il reparto tecnico tra virgolette e informatico del comune di Ribera non può essere presente ovunque molte volte alcune cose non vengono segnalate allora lì mi ricordo che nella sala convegna abbandonata perché giustamente non ci potevano essere nessun evento io mi ero costruito il mio piccolo laboratorio per sistemare tutte queste cose dove quando c'è i momenti più calmi andavo lì e cercavo di sistemare il possibile e darli e questo non per dire che insomma è questo che deve fare un assessore però in queste piccole cose diciamo essere d'aiuto essere umili e dare il proprio contributo dove serve per mettere a disposizione le mie competenze come andare a montare i canestri a Spataro a Secca Grande le reti da tennis ero l'assessore allo sport non è il tuo compito perché ci sono gli operai ok ma gli operai purtroppo non ci sono tutti i giorni non ci sono tutte le ore poi lì si aprirebbe una grande voragine di parole chiacchierate di battito il comune di Ribera è una 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 macchina che purtroppo funziona troppo a rilento per errori commessi e ricommessi in più di 20 anni ormai di più anche 30 direi perché purtroppo la politica su tutti i fronti è stata davvero poco chiara e presente purtroppo sì questo non si può incolpare una sola persona no assolutamente e soprattutto un solo sindaco e poi te ne dico un altro cioè incolpare un sindaco non ha alcun senso perché ad oggi ci avevamo questi problemi e noi oggi li dobbiamo risolvere quindi noi guardiamo la situazione com'è adesso attuale e cerchiamo di capire quali sono le nuove azioni che possiamo intraprendere al fine di cambiare questo corso perché se andiamo a trovare il colpevole che va a fare chi può fare può pagare i 20 milioni di euro di proprio che cosa può fare niente c'è di fare quindi solamente apriamo un polverone che non ha senso portare da nessuna parte purtroppo è stato anche questo fare troppe chiacchiere sul nulla e pochi il marketing politico è il problema il marketing politico diciamo tu ti hanno promesso una cosa sei entrato là dentro e era completamente un altro completamente un altro questo infatti è stato il motivo della mia uscita di scena dopo appena due anni nemmeno perché comunque è passato ancora un anno e mezzo veramente perché nel febbraio 2022 che sono che c'è stato il famoso rimpasto e quindi siamo siamo andati via allora solamente io e Giussi Zabbara e poi ce n'è stato un successivo insomma conoscete la storia questo rimpasto comunque è nato da un malcontento immagino generale diciamo tra partiti appunto tra partiti perché comunque lasciamo stare queste discussioni magari anche questa esperienza anche questa esperienza più sulle persone che comunque sulla sulla politica perché lì ti rendi conto che molte molte persone molti caratteri personalità vengono vengono fuori quando quando ci sono queste queste situazioni quindi capisci impari a conoscere meglio le persone sicuramente sicuramente ma questo in generale quando si affrontano i problemi si imparano a conoscere le persone in politica ancora di più immagino cari amici un'introduzione molto densa quella che merita il nostro caro Emanuele proprio perché veramente ha fatto delle esperienze incredibili che tanti magari non conoscevano e che oggi avranno avrete avuto il modo di poter scoprire gustare e poi magari perché no andarvi a documentare un po' e con questo si conclude l'introduzione ci vediamo fra poco cari amici alla grande cari amici ci troviamo nella prima parte del positive cast quello che ho capito della vita con il nostro grande Emanuele Macaluso e adesso come ogni puntata mi fa piacere un attimino fare un punto della situazione sull'importanza di quello che abbiamo capito della vita nella scorsa episodio ho detto che è molto importante per mettere questo layer su cui costruire il futuro ma è anche importante diciamo porsi questa domanda per fare una riflessione sulle esperienze che ci sono successe al fine di poter comprendere qualcosa e iniziare a mettere quel mattoncino uno sull'altro così da poter veramente diciamo non ricadere negli errori passati o meglio magari trovare nuove soluzioni a problemi già avuti a questo riguardo caro amico Emanuele ti chiedo che cosa hai capito della vita ma nella vita ho capito che ognuno di noi vive una una vita diversa che è al di là di quello che magari più chi vive in città magari è tenuto a pensare quindi il fatto di alzarsi la mattina lasciare i bambini a scuola andare al lavoro prezzi al lavoro tornare poi il fine settimana anche quel tipo di vita che magari è lontana dalla nostra quella di paese ognuno ha una vita a sé e bisogna essere grati ovviamente perché ha la possibilità di viverla soprattutto quando c'è la salute essendo vicino appunto al discorso salute tramite l'attività biologica medica di mio padre quindi mi mi ha fatto capire che la salute ovviamente è il uno degli aspetti degli aspetti più importanti e che anche lo stile di vita che teniamo è importante per per garantirci di per garantirci di vivere pienamente quello che ci aspetta quello che vogliamo fare il futuro che ci vogliamo costruire e tutte le sfide che la vita ci metterà davanti quindi la salute viene ovviamente prima di tutto e un'altra cosa che ho capito dalla vita è che la famiglia è l'aspetto il secondo aspetto fondamentale che mentre per la salute è una cosa naturale che quasi non si può controllare la famiglia invece è una 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 grossa fortuna che quella che che ti capita come si dice gli amici devi scegli i parenti no in questo caso chi come me ha avuto la fortuna di avere una una famiglia affettuosa sempre presente alle spalle a partire in questo caso dai dai nonni anzi dai bisnonni perché io ho avuto la fortuna di conoscere di conoscere di conoscere tre bisnonni si e tre no quattro bisnonni tutti quasi tutti quasi tutti esatto quattro bisnonni quindi la famiglia l'unione della famiglia con gli zii parenti anche più lontani con i quali siamo stati sempre affiatati la famiglia è qualcosa che ti plasma fin da bambino e che ti aiuta anche a rapportarti con le altre persone il fatto il fatto stesso che molti amici mi dicono che io conosco un po' tutti che comunque un po' tutti conoscono me al contrario e come mi pongo anche con gli altri il tipo di affetto che ho anche con gli amici che molte volte è lo stesso rapporto che posso avere con un familiare anche stretto questo secondo me sono valori che la famiglia stessa ti dà e che altri che magari non hanno quello stesso rapporto con i propri familiari magari si fermano al proprio nucleo familiare sono distanti da zii e cugini eccetera questa è una grossa differenza che può fare tanto nel carattere di ognuno di noi quindi la famiglia ti dà delle social skills effettivamente che poi ti aiutano tantissimo diciamo con me almeno è stato è stato così e poi come dicevi tu le esperienze sono quelle che mattone per mattone ti aiutano ad essere a costruire il tuo futuro ad essere la persona che sei oggi e che sarai domani e queste esperienze anche in questo caso ci sono quelle che puoi sceglierti e quelle che capitano a me ovviamente sono la maggior parte delle esperienze davvero mi ritengo fortunato in questo anche se negative mi hanno aiutato a crescere tantissimo come è stato nel caso della politica come è stato per le varie attività in ambito sociale che ho potuto svolgere a Ribera con alcune miei denze ma degli amici e come anche i Grimm se non sbaglio erano una di queste iniziative sì sì i Grimm sono di 10 10-11 anni fa avete organizzato poi anche le corse pure insomma le avete fatte di attività e hai parteggiupato tu personalmente fortunatamente ho avuto la fortuna ma anche grazie al mio carattere alla propensione di appunto del fare fare qualcosa scommettere metterci l'impegno prendersi delle responsabilità esatto è stato sempre qualcosa comunque lontano dal volerci lucrare sopra guadagnare perché tutte queste cose come ben sai sono non hanno mai una remunerazione dietro però ti posso dire una cosa io personalmente penso che la remunerazione cioè non deve essere una remunerazione ma deve essere un equilibrio economico finanziario cosa ti voglio dire cioè non per forza tutte le nostre attività devono essere legate ad avere un pagamento dietro se no si perde anche quel brio quella bellezza e quella voglia diciamo di scommettere perché appena tu vai a dare un prezzo poi tu devi fare quella cosa legata a quel prezzo non devi uscire più oltre a quell'orticello invece se tu vuoi far riuscire una cosa farai tutte le azioni che si necessitano al fine che quella cosa prenda vita e venga realizzata e quello è proprio l'investimento che ognuno di noi vuole fare no quello appunto per dire che alla fine al contrario di quanto magari molti potrebbero andare a pensare quindi ah quello ho organizzato questo perché c'erano gli sponsor e mettersi dei soldi in tasca invece invece no alla fine se hai un'idea è valida e pensi che funziona portarla a termine e non mettersi un soldi in tasca sapere che però come hai detto tu hai citato il mondo delle corse con la SD Ribera Corsa che abbiamo creato tanti anni fa che poi ho dovuto lasciare però già il solo fatto è che a quella prima gara con tutte le difficoltà e con la pioggia c'era tutto quel pubblico quella è la forma di pagamento più apprezzata per tutto il resto c'è il Mastercard per tutto il resto c'è il Mastercard o la carta del reddito cittadinanza ormai non più ora diciamo è stata cambiata ora si chiama PUC ci sono insomma c'è qualche variazione persone uniche diciamo di pubblico utilizzo progetti di utilizzo cittadino una cosa di chi stai PUC comunità comunque però sicuramente diciamo il reddito cittadinanza è stato un tampone magari importante diciamo in una storia in cui abbiamo creduto in quella del covid non voglio entrare nel dettaglio diciamo perché sicuramente è esistita però secondo me la gravità che ci hanno fatto percepire mass media è stata come sempre diciamo ci ha reso ci ha fatto credere una storia esponenzialmente più più grande quello che voglio dire è che purtroppo diciamo in quel momento c'è stato questa soluzione tampone per poter permettere a queste persone diciamo di non andare a rubare di rimanere a casa e quindi poter mangiare però in generale queste non sono le soluzioni che io mi immagino da parte di un governo perché devono essere le soluzioni che siano più legate diciamo ad una soluzione del problema e non ad un tamponamento perché il tamponamento non lo risolve il problema lo frena solamente diciamo per un piccolo per un piccolo periodo invece noi dobbiamo fare delle azioni per rendere stimolare diciamo queste diciamo persone nel caso diciamo del rito di cittadinanza a essere autosufficienti autosostenibili e diventare membri produttivi della comunità con tutti i problemi del caso anche il buone Elon Musk diciamo io sono un grande fan e lo seguo tantissimo lui alludeva ad un premio universale da dare diciamo in determinati casi che può essere anche giusto perché purtroppo ci sono casi limite che è difficile diciamo andare ad aiutare però quando subentra il non voler fare il non voler mettersi in gioco è solamente diciamo loziare il bighellonare allora queste non sono più soluzioni che ci aiutano o tanto peggio quando ci sono quelli che diciamo fanno la separazione solamente per andare a vivere in due posti diversi e poter avere un'entrata extra mensile chiuso l'argomento di quello che abbiamo capito del reddito di cittadinanza o meglio di quello che io penso del reddito di cittadinanza abbiamo parlato di salute famiglia esperienze le social skills che ti danno che ti danno la famiglia a questo ti voglio chiedere adesso che sai per hai creato una famiglia però che si sta per allargare quanto cambia la prospettiva se diciamo è cambiato il tuo modo di ragionare adesso in questo nuovo evento quindi questa nuova l'essere papà che fra poco diventerà già lo sei per la legge perché diciamo è il concepito è già formato perché manca meno di un mese e mezzo insomma all'arrivo quindi com'è cambiata le cose che hai capito della vita come sono cambiate Emanuele ma hai preso un punto importante perché comunque effettivamente magari non ci avevo si ci avevo riflettuto ma non in questo modo nel senso se penso alla mia vita fino a quando ero a casa dei miei genitori che non era alla fine molto diversa lavorativamente parlando da quella che faccio adesso parliamo ancora di due anni fa certo perché ci siamo sposati nel 2022 mettendo piede a casa nuova dopo già pochissimo ho capito che è lì che alla fine la vita la vita cambia perché è già il semplice fatto di vedere una bolletta una cosa più stupida della bolletta della luce del gas quello che è intestato a te e già lì ti senti grande bravo quindi sai che hai delle responsabilità solo fatto di vedere quella casa che ok l'hai immaginata tu ci hanno aiutato i nostri genitori però tutto quello che è là dentro adesso è la nostra è la nostra responsabilità è il nostro impegno esatto e quindi ormai tu vivi per mantenere quello anzi per ampliarlo costruirlo come in questo caso dicevi l'arrivo della 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 nuova bambina sarà sarà un altro importante cambiamento che però vuoi o non vuoi sono sempre stato molto legato ai bambini mi sono sempre piaciuti fin da quando ero piccolo ho sempre avuto un bellissimo rapporto già con i neonati insomma già con i figli degli amici insomma l'esperienza non mi manca ecco con tua figlia sarà diverso quello assolutamente non lo metto in dubbio ci sarà quel carattere di responsabilità maggiore dove tu non gli puoi far fare quella stupidaggia perché poi gliela insegni esatto quello sì anche se comunque ci vedo rispetto a pensando ai nostri genitori come erano quando avevano la nostra età meno rigoroso forse ma al di là di meno rigoroso ci vedo ancora comunque più ragazzini ok quindi i tempi cambiano secondo me però culturalmente prima diciamo diventare uomo aveva una denotava anche un cambio di approccio che tu dovevi avere alle cose dovevi essere più serioso dove c'erano bisogno di alcuni diciamo requisiti che tu per diventare uomo dovevi quasi diciamo una stupidata io ricordo mio padre quando era giovane cioè aveva la mia età un po' magari un po' di più quindi già quando avevo sei anni lui ne aveva trentanove e mio padre andava al lavoro in giacca e cravatta mio padre è medico chirurgo quindi andava al lavoro e si spogliava per mettere il camice quindi perché questa giacca e cravatta che era una cosa che vedevo mettere a mio nonno per esempio anche per il solo uscire comunque le persone di un tempo più anziane vestivano in quel modo assolutamente e quindi mio padre tutta la vita sì esatto cioè cosa che invece già adesso il fatto di poter andare al lavoro in jeans tuta e scarpe di ginnastica già questo questo ci svecchia un po' assolutamente assolutamente al di là che comunque al di là che comunque la responsabilità quella ce l'è a prescindere quella non si può nascondere da nessuna parte non ci sono abiti che possono nascondere il fatto che sei però l'approccio diciamo è meno serioso l'approccio secondo me sarà meno serioso certo già anche con gli amici ne facevamo i film su come sarà fra 15 anni ma come faccio a far uscire mia figlia di casa come faccio ad andarla a lasciare a scuola e sapere che è là da sola però ti dico una cosa il primo è quello di non basciarti la testa prima di cadere quindi diciamo goditele come as you go come per diciamo mentre la vita te le pone davanti a queste sfide prima seconda cosa ma no vuoi o non vuoi diciamo il tuo sai cosa mi ha detto una volta mio padre io ero molto geloso di mia sorella fino a quando aveva 13 anni tipo non volevo che si vissesse terminati i modi perché sembrava più grande usciva con i posti dei grandi io diciamo già iniziavo a vedere le forme che prendevo e quindi comprendevo che i vecchi marpioni potessero già buttarsi sulla preda ed ero molto 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 geloso a tavola una volta diciamo argomentavamo su questo io dicevo esistevo sul fatto che lei non doveva diciamo mettere dei pantaloncini corti mio padre mi ha detto una cosa che non dimenticherò mai mi ha detto giù tu ancora vedi le donne in maniera carnale ancora non ti è cambiato il punto di vista parliamo dieci anni fa perché io avevo no io sono mia mamma mia soella ha 13 anni io ne ho 11 in più 24 anni dieci anni fa perfettamente e mi ha detto questa cosa e lì io dico ma che vuole dire questo ma che significa tu ne vedi ancora in maniera carnale poi con il tempo crescendo crescendo ho capito veramente quello che mi voleva che mi volevo dire ossia che comunque diciamo io vedevo solamente l'aspetto sessuale diciamo della della situazione quando dietro c'era veramente molto 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 di più e quindi lì ti voglio portare al fatto che se tu educherai tua figlia in un determinato modo sicuramente diciamo i problemi saranno molto alleviati rispetto a quelli a quelli che ci possono essere e tu e gran parte dell'insegnamento è dato dall'esempio che si dà poco fa nel backstage prima di iniziare la puntata cosa dicevamo io non ho mai neanche fatto un tiro di sigaretta esatto questo qua diciamo è sintomo di un esempio diciamo che è venuto dai miei genitori e che verrà anche da io ho avuto la fortuna di trovare la mia anima gemella anche in questo perché Rosa Maria è identica a me anche sotto questi aspetti quindi sì sicuramente l'insegnamento che daremo poi alla bambina sarà frutto di quello che siamo noi bravo bravo e quindi ti dico se tu sei sicuro che tua moglie quando aveva 15 anni anche se usciva dovrei essere tranquillo e sereno che tua figlia andrà anche bene in questo caso ti racconto un altro piccolo esempio però stiamo ospitando un ragazzo si chiama Tommy della Polonia per ora è negli Stati Uniti è andato con la scuola hanno fatto un viaggio con gli Stati Uniti e io l'ho accompagnato di mattina alle 6 e mezza con gli altri ragazzi qua dell'istituto qua di Ribera ne sono circa 15 erano e c'erano lì tutti gli altri genitori io ovviamente ero diciamo fratello maggiore e dicevo ma che sarà bello ora questa settimana vi divertirete e tutti gli altri genitori un po' tesi non parlavano questo dicevo lì ai ragazzi poi quando sono saliti tutti sull'autobus io ho ridetto diciamo ai papà che si erano messi lì a guardare ma che bella settimana sicuramente si divertiranno li ho guardati e gli ho detto però io non parlo da papà mi hanno guardato e si sono messi tutti a ridere perché ovviamente diciamo l'approccio quello loro era più in ambito che cosa può succedere speriamo che va tutto bene che la eri un gatto cioè tutti quei problemi ma l'ultima cosa io ho imparato a non avere queste ansie tramite la mia esperienza quando sono andato negli Stati Uniti ho vissuto un anno io negli Stati Uniti a Whitefish sono ritornato nella mia famiglia nove anni dopo quindi a 26 anni 27 26 26 anni ritorno la seconda sera che sono lì esco me ne vado a una festa mi si spegne il cellulare mi addormento in quella casa indomani mi sveglio alle nove non avevo sentito i miei genitori tu immagini se tuo papà fino alle nove non avesse avuto notizie di te che cosa poteva succedere io ero terrorizzato questa cosa riesco mi faccio prestare un cellulare le contatto su facebook gli chiamo e dico papà papà non ti preoccupare tutto a posto no dici giù non mi sono preoccupato il problema è quando arrivano le chiamate non quando non arrivano quindi se non arrivano tutto va bene morale della favola diciamo questi qua sono delle piccole esperienze personali per farti rasserenare sul fatto che sicuramente questi sono problemi da affondare al momento ma con il tuo esempio e la tua diciamo vita in generale dimostra che non ci saranno assolutamente problemi ci auguriamo tutti non non sarà un grosso un grosso problema che dici tu no assolutamente no no la penso la penso come te ovviamente anche il fatto di essere genitori però non parlo da papà esatto giustamente lui non parla da papà però insomma essere genitori per la prima volta ti porta un po' a affasciarti la testa prima del tempo però sicuramente siamo responsabili noi di quello che insegniamo poi ai nostri figli per carità ovviamente non lo saremo solo noi perché la scuola fa tanto le amicizie fanno tanto sicuramente l'environment come dice Bombonolis diciamo i figli assomigliano più ai propri tempi che ai propri padri è questa diciamo una verità sì soprattutto di sitenti che io sposo al 100% sì un'ultima domanda su quello che hai capito legato diciamo all'aspetto genitoriale però questa volta dalla prospettiva di figlio tu sei stato primo genito come me hai avuto un fratello io una sorella molto dopo tu un fratello poco dopo ma vedevi un approccio diverso i tuoi genitori fra primo e secondo diciamo c'era qualche cambiamento qualche cosa che tu rimproveri ai tuoi genitori diciamo per aver trattato il secondo in maniera migliore di te no lo rimprovero a me perché ricordo e comunque me lo ricordo ogni tanto mia mamma che le piace raccontare raccontare questi piccoli aneddoti che io ero molto geloso avevo tre anni giustamente però proprio ero ero geloso nei suoi confronti ma mai mi riversavo riversavo questa gelosia questa rabbia su mio fratello ma su mia mamma ma ovviamente parliamo di un bambino di tre anni ma che ovviamente non ero solo io perché poi anche gli altri comunque insomma si sa che c'è questa forma di gelosia verso il nuovo arrivato non sono tutti i bambini fortunatamente ad averla però poi crescendo magari c'era sempre questa sorta di non rivalità ma il fatto che io ero il fratello più grande quindi dovevo comandare tutto io però ai miei genitori non posso assolutamente rimprogalare nulla perché ci hanno sempre trattati ugualmente con Fabio mio fratello siamo due persone simili ma sotto altri aspetti molto diverse e ovviamente questo ci agli occhi dei nostri genitori ci ci ha ci ha fatti ci ha fatti crescere con sì con lo stesso trattamento però siamo riusciti comunque ad emergere con due personalità distinte tra loro diciamo Fabio è quello un po' più riservato io sono sempre quello più eloquente più espansivo con la gente però per esempio anche sotto l'aspetto del famoso tiro di sigaretta anche Fabio sotto questi vizi tra virgolette non è come me quindi quello capisci che è una cosa di famiglia assolutamente però sì è vero anche tramandato è vero tramandato è la prima femminuccia della famiglia della nostra famiglia sì 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 quello quello sì però insomma avere un un fratello è il regalo più bello che ti possono fare i genitori fratello ovviamente sorella che sia ci ricolleghiamo sempre al discorso di famiglia perché comunque la famiglia allargata è quella che si vede poi nel momento nel momento del bisogno e ti aiuta a superare i problemi più più duri che poi ti troverai prima o poi ad affrontare nella vita quindi questa è una missione che ci aspettiamo fra poco il secondo genito in arrivo sì sì a breve scadenza sì ma sicuramente perché già è un progetto quindi però facciamo nascere facciamo arrivare questa e poi si vedrà e poi si vedrà benissimo benissimo cari amici bellissima discussione ma Emanuele veramente con le sue tante esperienze riesce a dare diciamo un'analisi molto ampia delle situazioni che gli sono accadute riuscendo diciamo anche a recepire quello che ha capito nella vita e poterlo condividere diciamo con tutti noi ed è stato veramente molto importante e di grande spunto di riflessione con questo si conclude la prima parte del positive cast ci vediamo fra poco alla grande cari amici siamo arrivati alla seconda parte del nostro positive cast nel diciannovesimo episodio con il nostro grande Emanuele Macaluso la seconda parte tratta dei nostri eroi con una domanda ben precisa chi sono i tuoi eroi questa domanda viene fatta per un motivo molto semplice per eliminare la brutta abitudine che un po' tutti abbiamo di denigrare gli altri per elevare noi stessi io lì mi sono industriato cercato come posso fare io per cambiare questo trend secondo me il modo migliore per poter fare è quello di vedere intorno a noi tantissimi eroi che ci sono tante persone straordinarie che fanno cose straordinarie e che quindi diciamo ci fanno percepire un mondo migliore dove ci sono persone da ammirare non da denigrare questo diciamo è lo spirito con cui è nato il positive cast e con i vari ospiti abbiamo sempre cercato diciamo di trovare qualche identikit persona o anche nello scoprire insieme chi poteva essere un nuovo eroe a questo riguardo caro amico ti chiedo chi sono i tuoi eroi ma i miei eroi i miei personali magari non ci ho mai riflettuto però mi viene da dire i miei nonni ma nonni nonni e nonne ma più i nostri nonni la gente anziana soprattutto di Ribera l'ho sempre vista è guardata con tantissimo rispetto perché se oggi ci ritroviamo a vivere almeno la gran parte di noi una vita agiata o comunque vuoi o non vuoi ogni famiglia è un pezzo di terra quindi questa è la grossa eredità che sia il territorio sia le famiglie ci hanno lasciato è grazie a quello che hanno fatto i nostri nonni nel nel mio caso perché comunque hanno un po' tutti hanno vissuto una una delle epoche a cavallo molto diverse tra loro certo c'è da pensare che ovviamente per esempio mio nonno che è venuto a mancare da pochissimo all'età di 97 anni pensate cosa vuol dire terminare la propria vita nel 2024 essendo nato nel 26 certo quindi a quasi 98 anni lui che ci teneva ad essere ricordato come carabiniere reale questo perché lui ha giurato quando c'era il re quindi certo prima ancora diciamo della prima repubblica noi pensiamo è una cosa lontanissima ma io potevo parlare fino a qualche settimana fa con una persona che aveva vissuto il regno d'Italia con tutto ciò che si sono dovuti si sono trovati davanti e hanno dovuto affrontare come cambiamenti faccio l'esempio è nato post guerra post prima guerra post prima guerra incontro alla seconda guerra mondiale esatto poi ricostruzione totale diciamo fino a quello che vediamo oggi qui parliamo di una persona che o di persone che hanno vissuto l'epoca dello smartphone e l'epoca della mula dentro casa è una cosa assurda a pensarci ma è così sono le stesse persone mentre ovviamente magari anche noi ci ritroveremo ma secondo me no perché già se pensi agli anni 90 la tecnologia c'era ora è più evoluta certo nel 26 la tecnologia non c'era o meglio era la tecnologia che si stesseva era completamente c'era il mulo con la ruota e il carretto che ti portava dal punto A al punto B esatto magari ovviamente c'erano già le fabbriche nel nord d'Italia c'era l'elettricità c'era l'elettricità diciamo l'elettricità a Ribera non c'era nel 26 non c'era per tutti vero? non c'era per tutti certo lo studio qua dove registriamo noi questa zona lo sai come si era prima Luca Caru di Ribera che tutti portavano qui diciamo i loro i loro residui quando andavano in bagno non c'erano neanche bagno a casa sì esatto perché questa prospettiva quanto è importante avercela per sentirci felici e essere grati di quello che abbiamo ma è è un aspetto molto importante perché comunque sono delle qualcosa che ci hanno trasmesso i nostri familiari più anziani come in questo caso i nonni perché questo ci deve ci deve portare a riflettere su quello che abbiamo oggi e che se ce l'abbiamo è grazie a loro loro ovviamente inteso in maniera più generale possibile perché sono stati coloro quelli della loro generazione a creare la società che abbiamo che abbiamo oggi dove noi siamo protagonisti dove sì noi siamo siamo coloro che la porteranno a uno step successivo di sviluppo i nostri figli faranno altrettanto però come ti dicevo prima questo cambiamento così epocale tu dici però secondo me ti posso dire noi non abbiamo cambiamenti epocali però c'è che racchiudono cento anni ma noi abbiamo tantissimi in cui ci stiamo vivendo che racchiudono diciamo decenni ti faccio un esempio walkie talkie cd mp3 smartphone spotify tutto vicinissimo cioè noi in trent'anni praticamente abbiamo vissuto cinque sei cambiamenti totali della musica cosa che prima ci volevano dal vinile alla musica setta sono passati quanto tempo bravo bravo cioè capito quello che il vinile parliamo che già negli anni venti era una tecnologia abbastanza mia mamma è nata nel 61 negli anni 80 ha vinto una borsa di studio negli anni 70 qualcosa ha vinto una borsa di studio se comprate vinile capito cioè il nuovo modello un po' più aggiornato ma sempre quella la tecnologia i nastri sono arrivati dopo cioè cosa ti voglio dire noi non abbiamo questo non riusciamo a vedere questo gap a mio avviso perché tutti questi micro gap che stiamo vivendo cioè ci portano a non ad essere al passo con i tempi questo qua perché per l'arrivo di internet ossia che la tecnologia che c'è in Cina io fra due settimane la posso utilizzare a ribera cosa che prima era completamente impensabile l'infrastruttura che ci permette di fare tutto ciò e oltre l'infrastruttura che ci permette anche di vivere tutto ciò perché tu immaginati viaggiando quando quanti viaggi possiamo fare oggi in più rispetto a quanti le poteva fare tuo nonno ma proprio non perché lui magari non le voleva fare all'epoca ma proprio perché mancavano diciamo tutte le infrastrutture tali diciamo che ci rendono oggi così interconnessi quel mondo tanto bisfrattato che diciamo che non ci piace più che ci sono troppe cose che vanno male ma dall'altro ce ne sono tantissime che vanno benissimo e che a noi ci migliorano la vita e ci permettono oggi di essere qui davanti a due telecamere a poter diciamo condividere una bellissima conversazione tu immagina di tuo nonno se gli dicevi nonno faccio il positive cash negli anni nel 35 ma come anche a mio nonno ai nostri nonni cioè quanto sarebbe stato strano c'è questa cosa sì sì cosa che effettivamente come dici tu la tecnologia fa passi a giganti di giorno in giorno noi non ci facciamo nemmeno caso ce la diamo quasi per scontata capito cioè io ti dico tu immagina di aprire nel 2000 un'industria di cd che 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 saresti stato intelligente poi nel 2005 di dvd immaginati che saremmo stati intelligenti e oggi che ci potremmo fare con questi cd le lame niente niente sì effettivamente mentre parlavi pensavo proprio a questo a quando per esempio abbiamo abbiamo ricevuto come regale i primi lettori cd portatili quanti anni sono passati venuti ad avere l'mp3 niente niente e ora Spotify da un anno all'altro praticamente ma sai c'è una una percent c'è un tasso di crescita che mi piace sempre ricordare che è quello della tecnologia il tasso di crescita della tecnologia dall'anno zero diciamo chiamato alla nascita di Cristo all'anno 2000 e poi dal 2000 al 2020 dal 2000 al 2020 è l'11 triliardi per cento in più rispetto ai 2000 anni precedenti per questo noi non viviamo non vediamo cioè tutte queste tutte queste cose capito perché noi le viviamo le viviamo quotidianamente tutti questi tutti questi cambiamenti e queste cioè tu immaginati da cioè da che non c'era l'elettricità a quanti modi abbiamo scoperto ora per fare l'elettricità cioè da che non c'erano le macchine per tutti a che ora diciamo ci sono più macchine che persone esatto cioè quindi stiamo vivendo veramente secondo me nel periodo più florido dell'essere umano non so se noi lo stiamo degradando questo paese questo mondo come si dice ma noi non degradiamo il mondo ma degradiamo la possibilità di vita nostra all'interno del mondo perché la terra secondo me continuerà a vivere a vivere senza troppi problemi diciamo la vita umana all'interno della terra questo magari può essere un poco un poco più 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 a rischio quindi insomma veramente è stata bellissima questa tua introduzione di questi eroi questi nonni perché ci ha permesso di fare un excursus diciamo e delle riflessioni molto importanti anche delle prospettive su come hanno vissuto la vita loro e come la stiamo vivendo noi e anche diciamo le varie proiezioni che noi facciamo non saranno così secondo me lontane da loro per dirti Manoel se a 90 anni qualcuno va sullo spazio e tu te lo sei immaginato a 25 a 20 cioè non è lontanissimo da te capito è molto più lontano di chi andava sul mulo che per noi capito esatto ora la cosa per noi stranissima quale potrebbe essere se noi potessimo vivere una vita cioè scoprissimo che il nostro cervello avrebbe non lo so delle potenzialità paurose che non conosciamo che riusciamo diciamo a mettere in atto allora questo sì che per noi sarebbe una cosa sconvolgente però l'unione di tecniche per realizzarle un altro noi siamo abituati a questo ormai siamo abituati la nostra la nostra diciamo generazione secondo me dei millennials siamo proprio abituati a questo vedere oltre vedere vedere un domani migliore vedere è un'altra cosa secondo me che adesso siamo prossimi a prendere le redini di responsabilità di questa di questa società secondo me noi ci troviamo diciamo in una parte non male perché rispetto ai nostri genitori siamo molto più formati tutti di base uno per le tecnologie due perché quasi tutti siamo andati all'università ormai sì e quindi diciamo c'è solamente buoni propositi secondo me ci possono essere per il futuro e per la vita della nuova Macaluso che sta per arrivare che dici tu sì 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 quello sicuramente perché comunque come dicevi tu abbiamo avuto la possibilità vuoi o non vuoi un po' tutti di frequentare l'università conoscere nuovi ambienti per me è fondamentale che ognuno di noi faccia la propria esperienza fuori perché comunque per quanto possiamo mostrarsi attaccati a questo paese molti di noi sono tornati pur avendo lavorato fuori vissuto fuori però per migliorarlo le esperienze che hai fatto fuori messe a disposizione di tutte queste queste sono quelle cose che possono davvero cambiare o comunque far partire un cambiamento soprattutto se in connessione con con altre persone che hanno vissuto come come te e qui vado vado a introdurti un'altra figura di eroe che in questo caso sono proprio i ragazzi come come noi che sono che sono voluti tornare ovviamente l'esempio non è solo per Ribera ma per la Sicilia in generale per il sud in generale ma spostiamoci anche oltre come i tanti ragazzi arrivati qui in Sicilia col barcone che hanno iniziato una nuova vita con tutte le difficoltà del caso sono riusciti a mettere da parte qualche soldo e comunque nonostante tutto questo questi soldi questi loro ricavi li mandano alla propria famiglia questa è un'altra è un'altra figura che sono delle realtà veramente eroiche che meritano di essere prese come esempio e non dare mai nulla per scontato mentre per quanto riguarda chi appunto è tornato nella propria terra non deve mai lasciarsi andare alle cose per come sono alle consuetudini sì anche se ammetto che è difficile perché per molte cose hanno capisco che sono stato magari trascinato e trattenuto anche io sotto alcuni aspetti però come delle realtà che sono nate e sono cresciute qui grazie all'esperienza di chi viene da fuori ognuno di noi nella propria vita nel proprio piccolo può fare può fare la differenza aiutare la comunità a cambiare e questo è un motore che è più forte di quello che può essere della politica che sempre ti spinge a credere in un cambiamento che alla fine il cambiamento lo fanno le persone nasce dal popolo sì ok il popolo che elegge i propri governanti sono amministratori non sono innovatori noi non eleggiamo gli innovatori gli innovatori dobbiamo essere noi persone che abbiamo una cosa e la vogliamo migliorare loro sono gli amministratori che devono amministrare nel miglior modo possibile quello che già c'è per le proprie capacità però gli innovatori dobbiamo essere noi persone veramente che ci inventiamo una cosa mettiamo le mani in pasta nella realtà e la cambiamo a nostro piacimento che dici tu esatto l'esempio più banale che si riporta sempre in qualsiasi conversazione se la città è sporca non bisogna debitare la colpa alla politica agli amministratori a chi gestisce la polizia se c'è quella sporcizia sarà colpa di qualcuno quindi fermiamoci se vediamo qualcosa che non va se c'è un cartello stradale caduto in mezzo alla strada se c'è non pensiamo solo a noi stessi se ci vorrebbe tu dici risvegliare un dovere civico maggiore che sia più di appartenenza e quindi venga vista la comunità come una cosa di tutti piuttosto che come una cosa di nessuno però secondo me come dicevi bene tu chi viene da fuori a questo imprinting per quanto poi se vediamo più sporco siamo portati un attimino a sporcare di più però sicuramente quello sporco è sempre minore rispetto a quello che si può fare abituati non abituati a nuovi standard quello si e dobbiamo ovviamente essere ad esempio per le nuove generazioni una realtà per ricollegarsi al discorso dei Ribera Knights che è così fortemente inclusiva e che coinvolge così tanti ragazzi assolutamente è un aspetto importante perché comunque tu stai insegnando qualcosa anche nello scherzo anche se c'è molto cuglionio tra virgolette tra quello che si fa però gli stai insegnando qualcosa e hai una grossa responsabilità e ti devo dire che frequentare comunque questi ragazzi grazie ai Ribera Knights e quindi sto avendo la possibilità nuovamente di confrontarmi con le nuove generazioni e ti fanno per sperare mi fanno sperare al contrario di quanto dicevo fino a s'estate no no ma io stesso dicevo fino a s'estate perché non c'è il tatto cioè è semplice parlare di argomenti che non si sanno se li vedi da fuori magari puoi vedere molti ragazzi che sembrano disinteressati a tutto che hanno solo voglia di divertirsi anche tramite l'alcol e le droghe è inutile nascondersi perché purtroppo a Ribera queste cose ci sono e sono purtroppo all'ordine del giorno ma è anche vero che ci sono dei ragazzi che vogliono apprendere vogliono crescere sono legati al proprio paese credono fortemente in quello che fanno e si impegnano anche nello studio io molte volte li prendo anche in giro dicendo ma chi studia tanto se a scuola a scuola non si fa niente non si studia perché ovviamente lo sappiamo il liceo era un'altra cosa noi che adesso siamo più grandi lo vediamo da fuori giustamente gli diamo un peso diverso rispetto a quando lo vivevamo direttamente esatto alla fine noi eravamo pure così chi più chi meno ma eravamo sempre preoccupati per le interrogazioni ma questo impegnarsi è di fondamentale importanza per un domani però secondo me c'erano diciamo meno opportunità meno cose da fare all'epoca diciamo oppure forse anche c'era una diciamo almeno io lo dico per la mia esperienza una riconduzione al magismo più di quanto c'è ora c'erano molte più liti rispetto a quando ne vedo ora c'era diciamo un utilizzo diverso una sorta di rispetto diverso adesso comunque chi sa parlare bene chi ha informazioni va avanti non è più solo chi sa alzare le mani capito come nell'ambiente in cui siamo cresciuti noi invece questi ragazzi cioè io ho mio fratello Dai che va in quarto superiore che lui mi dice ma noi non bullizziamo a nessuno cioè non ci sono non ci sono questi atti per sminuire gli altri per elevare noi stessi capito e quindi vedo molta più coesione poi dall'altro dici non tenno a niente non lo so dico ma tu a cosa tieni se prima ti comportavi e denegravi gli altri capito quindi insomma è diverso diverso sicuramente ma sono dei ragazzi in gambissima tutti quelli che dicono che ci sono ragazzi che la colpa che ribera non va male è dei ragazzi sono degli illusi non ne capiscono niente vogliono scaricare il barile dei propri successi sugli altri capito perché è semplice puntare il dito sugli altri ma non è semplicissimo è dire curpasoe 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 invece puntatelo verso te cosa posso fare io meglio per migliorare gli altri oppure vediamo vado a scoprire come hai fatto tu non che questo era il problema però hai avuto modo di metterti diciamo in gioco anche con ragazzi hai scoperto persone straordinarie ricredendoti come dicevi mi sono ricreduto come dicevi anche tu non ho nessun problema ad ammetterlo ero molte cose mi avevano portato a non credere più nelle nuove generazioni invece anche grazie a Ribera Knights ho capito che i ragazzi vogliono mettersi in gioco e soprattutto devono essere forti di questo capire che effettivamente loro hanno il coltello dalla parte del manico e possono fare la differenza assolutamente contro chi dice che la colpa è loro eccetera solo per scaricare il barile sei un grande appassionato di musica secondo te come potremmo noi stimolare il nostro territorio riberese a fare più musica oltre già il Toscanini comunque che dà un'istituzionalità non indifferente un diciamo grandissimo traguardo per il nostro territorio e grandissimo diciamo asset da poter utilizzare in vari modi asset diciamo non per sminuire ma anzi per valorizzare la loro presenza del territorio però secondo me ci vorrebbe diciamo una musica cioè un movimento musicale più libero sì cosa ne pensi come potremmo fare tu hai avuto anche tante band per quanti anni hai fatto musica praticamente per dieci anni no veramente anche di più perché basso batteria chitarra tutte cose sì sì perché fortunatamente è una cosa di famiglia io non ho mai studiato musica quindi grazie a una cosa naturale quindi ho orecchio così come mio padre e così come mio zio e lo aveva anche un po' mio nonno cose che non ha mio fratello per esempio e quindi la propensione a saper suonare diversi strumenti questo mi ha portato a fare tanta esperienza da amatore ovviamente non mi ritengo musicista ma in tanti ambiti sì ho avuto diverse band lo strumento quello al quale sono più affezionato è rimane la chitarra perché sono partito con la chitarra da piccolo avevo dieci anni col professore Smeraglia poi il bellissimo periodo delle medie la grandissima opportunità che si è aperta alle medie allora alla Navarro con Filippo Daino che continua ad esserci e poi da lì è arrivata la passione per il rock e tutte le altre cose che ho fatto da autodidatta grazie a un gruppo affetato di amici chi c'era chi c'era all'epoca il buon Vincenzo Vincenzo c'è stato c'è stato sempre però allora eravamo molto più il gruppo era molto più ampio perché chiunque comunque strimbellava qualcosa e comprava gli strumenti ricordo allora c'erano Renzo Scaturro Salvatore Borsellino Andrea Valenti Vincenzo Campanella queste erano le primissime le primissime bende che cominciavamo ad avere con Giovanni Gambino e ci scambiavamo un po' tutti i ruoli perché eravamo tutti autodidatti tranne qualcuno che continuava a prendere qualche lezione e ovviamente c'è stato chi poi ha mollato abbandonato e chi come noi ha continuato perché anche Vincenzo era professore Vincenzo ormai è il grande rocchettaro sì sì Vincenzo è quello che appunto della musica della passione ne ha fatto una professione però sì da allora è stato un susseguirsi di band che ci ha fatto divertire tantissimo io ho sempre comprato gli strumenti perché c'era bisogno cioè ok io avevo la chitarra non avevo altri strumenti ma sai stiamo facendo una band e ci manca il batterista vuoi farlo tu dico provo poi con la batteria di un altro poi mi piaceva e ho comprato la batteria poco dopo nascono i The Gift che è stata la mia storica band quella alla quale ovviamente sono più affezionato perché siamo stati insieme che cantava che cantava un periodo in un'altra band ho cantato ho cantato io ma così non stavo mai The Gift c'era Simon di Dio Simone sì c'è stato c'è stato sempre la formazione è stata quasi sempre quella perché comunque all'inizio io ho preso il posto di Renzo Scaturro che ha dovuto mollare all'inizio suonavo col suo basso perché non ce l'avevo e poi ho comprato in quel caso mi è stato regalato il basso l'Iconi The Gift è stato il periodo più bello perché sì principalmente eravamo a Ribera ma andavamo anche a suonare a suonare fuori ci sono stati momenti bellissimi che io ricordo a secca grande sia per i due scialo con i Grimm organizzati dai Grimm ai quali abbiamo partecipato e suonato sia per altri eventi ricordo la notte la notte bianca bravissima quella in memoria di Giuseppe Minolfo adesso non ricordo l'anno ma erano le 4 di mattina c'era il lungomare pieno di gente che ballava con la nostra musica e vi posso assicurare che vedere questo anche se è una piccola realtà cioè alla fine eravamo sì la maggior parte riberesi ma era tutta Ribera su quel lungomare questo ti fa veramente è una delle più grandi soddisfazioni che si possono provare soprattutto se nasci da autodidatta e come dicevi tu Ribera ha una grandissima tradizione musicale che va dalla banda vera e propria fondata dal professore Gina tempi che furono e che continua oggi ad esibirsi anche fuori è molto apprezzata oggi abbiamo la bellissima realtà del Toscanini che è una presenza autoritaria a livello musicale e professionale però serve una sorta di indie indipendente quello che mi sembra di non vedere questo credo ci sono alcuni ragazzi ti fermo un attimo ci sono c'è il buon Zedda c'abbiamo il buon Gav c'è Aquilina come cantanti che ovviamente che producono musica che producono musica sì questi ci sono però secondo me non c'è un movimento dietro importante come per i fan di Ribera Nights cioè ci vorrebbe un modo non lo so potrebbe essere il negozio di strumenti poi magari un inizio per poter o potrebbe essere diciamo un auditorio non lo so potrebbe essere la vecchia come si chiama chiedo la discografia che hanno fatto lì all'ex all'ex teatro ludoteca la mediateca la mediateca lì si potrebbe diciamo destinare a qualche gruppo per fare musica in maniera diversa non lo so io per ora per poter invogliare queste cose o cercare di coinvolgere questi ragazzi attivamente nell'estate riberese cioè quale potrebbe essere diciamo qualche soluzione allora questa è stata effettivamente una cosa questa dell'estate riberese che è cominciata a mancare quando ancora noi ci si viviamo nel senso o comunque subito dopo che purtroppo abbiamo dovuto smettere perché molti sono andati sono dovuti andare fuori per lavoro praticamente il discorso almeno per come lo vedo io è più legato alle band perché come hai detto tu ok magari da un lato è calato un po' il creare nuove band formare nuovi gruppi lato rock sono nati invece i cantanti che è ancora più difficile mettersi in gioco da soli assolutamente nino un genere che comunque al momento è sotto i riflettori come la musica trap quindi ok quello però non ho più visto purtroppo da nostalgico anche se vogliamo non ho più visto crearsi nuove band e a differenza di anni fa dove si vedeva comunque il periodo natalizio delle feste i locali dove si esibivano band come noi ma non eravamo solo noi c'erano anche altre band che suonavano purtroppo ora i gestori locali sono costretti a chiamare gente da fuori quindi questo mi dispiace vedere che alla fine ci sono sempre le stesse persone che suonano divinamente sono ragazzi bravissimi e comunque sono pure giovani ma sono pochi tutti gli altri cioè manca quella cosa che c'era tempo fa quando chi voleva mettersi in gioco comprava lo strumento ci provava magari l'abbandonava però però non lo faceva c'era quella quella sorta di voglia di provare i tempi cambiano le mode le mode si seguono pure però secondo me un app della musica a Ribera sarebbe importante oltre il Toscanini diciamo per la musica indipendente poter dare diciamo far creare a tanti altri ragazzi cose nuove magari anche innestando i due cercando di coinvolgere anche dei professori dove ti danno quelle indicazioni sul vocale di cui tu hai bisogno senza magari essendo per forza didatti senza una didattica vera e propria ma più diciamo per la crescita del movimento dal lato comunque di formazione tra virgolette primaria so che comunque il alla Navarro la tradizione continua anzi forse molto di più rispetto a quando c'eravamo noi in quei tempi erano gli albori ma adesso c'è una band ed eravamo un bel gruppo ora c'è che riesce diciamo ogni tre anni a trovare sempre nuovi interpreti di andare lì però non c'è quella cosa delle band dell'unione cioè per me la musica non è non è solamente saper fare qualche cosa ma è proprio quell'unione che ti dà era bellissimo tutto il contorno dietro di quel passare del tempo in maniera costruttiva non solamente diciamo la lezione capote si dì e tu ne vuoi sapere in che un niente magari c'è qualcuno che ti spingi vacci 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 è uno stimolo sotto tantissimi aspetti noi grazie al grande maestro Leandro Firetto che è il nostro tastierista uno per me dei musicisti più più importanti della storia riberese Leandro ha composto dei pezzi li ha composti interamente lui ovviamente noi poi li abbiamo registrati uno di questi che era We Are è stato pubblicato e ovviamente ognuno di noi ha suonato la sua parte ce l'abbiamo su youtube certo allora lo metteremo in descrizione e qui giù dovrebbe dovrebbe ancora esserci nel canale dei The Gift però questo per dire che comunque è uno stimolo anche a creare qualcosa di nuovo non sono solo cover band ma ovviamente qualcuno di noi ci ha sempre provato a registrare a registrare qualcosa chi chi prima chi dopo però la musica è una di quelle due episodi fa abbiamo avuto il nostro grande maestro Francesco Fanara Francesco è uno di quelli che ricordo che fa musica ricordi come Super Rocchettaro Super Rocchettaro ai tempi della ribalta quando facevano le cover di Master of Puppets di Metallica e lui faceva la solo con i capelli lui aveva sì era il capellone di turno della scuola e sì sì diciamo che Ribera ha visto veramente passare tantissime persone sotto l'aspetto musicale valide come nel caso di Francesco che ne ha fatto una passione Leandro che continua a seguire la musica nonostante sia un infermiere ormai da tanti anni e anche Simone che è un grande cantante dovremmo cercare di creare di dedicare un po' del nostro tempo per ricreare un hub musicale stimolare nuovamente in qualche modo con qualche iniziativa non so con qualche cosa ma anche solo la ribalta studentesca che a me piacerebbe proprio mettermi a disposizione della scuola l'avevo già detto ad alcuni ragazzi l'ho detto anche alla preside che io per questo tipo di attività mi metto a disposizione perché per noi è stato un trampolino di lancio però nello scherzo comunque davvero molte persone hanno scoperto una passione che sia il ballo il canto la musica o anche la recitazione ricordo i gemelli cipolla con anche gli altri ragazzi si sono lanciati da lì e adesso fanno teatro comunque intrattengono il pubblico in maniera importante divertente ci sono passioni che partono sempre dalla scuola si parte la ribalta è una cosa che secondo me non si deve perdere perché a Ribera vero che non si può fare più al cinema lupo come si faceva perché mentre prima eravamo solo in liceo ora sono tre istituti superiori quindi non possono essere purtroppo contenuti all'interno della stessa struttura però il fatto stesso del dietro le quinte dentro i camerini cambiarsi le ragazze che pensavano al costume a creare c'è anche noi ragazzi mi ricordo quando abbiamo fatto il balletto dedicato ai successi Raffaella Carrà noi ragazzi a 15 anni ballavamo facevamo le coreografie le scrivevamo dicevamo dobbiamo fare questo piuttosto che quel passo questo è stato un mondo forse perché ero più impegnato in altre attività tipo il basket gli scout le ribalte per esempio non sono state mai diciamo uno dei miei interessi o non sono stato mai una persona diciamo che ha prodotto contenuti lasciami passare il termine da proporre poi nelle ribalte quindi diciamo tutto questo background lo sto ascoltando con un immenso fascino perché un po' mi è mancato anche se comunque lo vedevo gli amici la sera quando provavano poi ci andavamo tutti certo ma era un momento di condivisione per tutti anche per stare insieme e fare qualcosa di diverso allora noi ci prendiamo l'impegno che troviamo un bel format facciamo in modo di renderlo economicamente sostenibile ne parliamo con qualche altro nostro amico vicino a noi e cerchiamo di ristimolare un attimino questa diciamo creazione culturale Emanuele abbandonare perché ho saputo che quest'anno si doveva fare per non ho capito quale preciso motivo non si è più fatta la ribalta ma è un appello che voglio fare a voi non perdete questa occasione per esprimere voi stessi perché è qualcosa che vuoi o non vuoi ti forma in qualche in qualche aspetto io aspettavo tutto l'anno gli ultimi due veramente sono stati non mi ricordo se in terzo abbiamo fatto qualcosa ma quarto e quinto sicuro si suonava almeno per il mio per quello che sapevo che sapevo fare io ho fatto pure delle imitazioni quindi un piccolo momento teatrale quindi non perdete l'occasione di divertirvi e mettervi in gioco e la ribalta lo dice la parola stessa è una un avvenimento secondo me importante nella tradizione delle scuole riberesi sono completamente d'accordo con te caro amico e adesso con questo appello del buon Emanuele si conclude la seconda parte del nostro Positive Cast noi ci vediamo fra poco e vi dico alla grande cari amici benvenuti alla terza parte del Positive Cast punti di vista del diciannovesimo episodio con il nostro grande Emanuele Macaluso punti di vista come diciamo sempre sono quella lente che ci permettono di poter andare a interpretare la realtà che ci circonda che ci abbraccia che ci permette di poter vivere questa vita così immersiva e che non per tutti come diceva il buon Emanuele è uguale anzi ognuno di noi viviamo una realtà differente il Positive Cast con i nostri cari ospiti e con la ruota e la fortuna si pone appunto l'obiettivo di poter sviscerare un nuovo punto di vista in cui i nostri ospiti sono molto ferrati al fine di poter creare e dare degli strumenti giusti per poter andare a comprendere la realtà che ci circonda nel modo migliore possibile al fine di ricercare la verità assoluta che è questa l'unica che ci permette veramente di poter prendere decisioni informate che ci faranno migliorare la vita questo riguardo la nostra ruota della fortuna che rappresenta l'imprevedibilità dell'esperienza umane andrà a scegliere il punto su cui discuteremo oggi i punti di oggi sono al primo punto abbiamo il giornalismo al secondo punto abbiamo la politica al terzo punto abbiamo l'agricoltura al quarto punto abbiamo la musica al quinto punto abbiamo l'associazionismo al sesto punto abbiamo il mare al settimo punto i documentari e all'ottavo punto i motori e adesso caro amico prego gira la ruota numero uno il giornalismo quale migliore interlocutore di te in qualità di addetto stampa Harry Beranaitz della grande diciamo esperienza ci potrà aiutare insomma in questo a discutere su questo punto arriviamo subito cari amici il primo punto il giornalismo Emanuele parola a te il giornalismo ne abbiamo già parlato però insomma è un argomento che mi sta che mi sta molto a cuore perché è quello che ha caratterizzato di più la mia vita soprattutto dopo l'università e anche durante l'università perché comunque io ho iniziato a lavorare a scrivere per blog quando ero appena entrato al primo anno di scienza della comunicazione subito dopo aver lasciato ingegneria meccanica e come ti dicevo il mio scopo era quello di arrivare ai motori quindi se non da diciamo produttore quindi tramite l'ingegneria meccanica colui che li avrebbe prodotti studiati assemblati eccetera da narratore che alla fine effettivamente era quello che volevo fare ovvero avvicinarmi per chi è del settore al tipo di giornalismo che era proprio di Top Gear quindi Jeremy Clarkson Hammond e James May quella maniera simpatica ma pur sempre professionale di raccontare il mondo dei motori perché è una mia grande passione come lo è per tanti altri e quindi tramite scienza della comunicazione poi ci sono arrivato ma in realtà come ti dice ci sono arrivato molto prima sono stato fortunato perché a quel punto mi sono impuntato sul voler iniziare questo percorso mandando semplicemente una mail una lettera di presentazione a tutte le redazioni che c'erano in Italia tutte quindi dalla più importante ho scritto anche a Top Gear in inglese ci volevo provare però insomma ci sono riuscito perché tra quelle che hanno risposto più concretamente non sono state tantissime però chi più chi meno ha risposto sì però facciamo questo quello e alla fine quelli che hanno risposto più concretamente sono stati proprio quelli di blog quelli di blog che mi hanno consentito dato fin da subito la possibilità di esprimermi come ti dicevo ok nella parte del blog vero e proprio alla fine erano sì dei comunicati stampa che venivano rivisitati che però molte volte dovevo proprio sviluppare degli argomenti come magari qualcosa sulla sicurezza quindi c'era la ricerca dietro sì quindi c'era il vero e proprio meccanismo case studies di ricerca proprio del giornalismo che bisognava bisognava attuare lì ho fatto tante esperienze scusate ti blocco qual è diciamo la tecnica del giornalismo che proprio dicevi adesso di poter ricercare com'è diversa la ricerca giornalistica rispetto a una ricerca di curiosità ecco se possiamo dare qualche perimetro qualche indicazione magari a qualcuno che si sta approcciando adesso a questo mondo allora ovviamente da ambito sicuramente immagino un vat checking maggiore rispetto a quello della mera curiosità ecco allora da ambito ad ambito ovviamente cambia quindi giornalismo di cronaca giornalismo politico sono economico sono tutti metodi sono informazioni che richiedono metodi diversi approcci diversi e fonti diverse nel caso del giornalismo dell'ambito dei motori è qualcosa di tecnico ma non troppo ovviamente anche lì poi ci sono i macro e i micro settori dove bisogna applicare determinate regole per esempio io non seguivo tantissimo le gare di MotoGP ci pensavano altri ragazzi ma seguivo quelle del supercross nessuno in Italia parlava di supercross che in America è uno degli sport più seguiti dove ci sono centinaia di migliaia di dollari investiti perché è uno sport che si fa indoor a differenza dell'AMXGP quindi del motocross che si fa nelle piste da cross in America prendono gli stadi li chiudono li riempiono di terra li lavorano e se ci pensate guardatevi qualche timelapse di costruzione di una pista di supercross all'interno di uno stadio è una cosa impensabile eppure lì è molto seguito ci sono dei campioni fortissimi e io ero uno dei pochissimi che ne parlava ma io posso tranquillamente dire che ero l'unico che in un blog ne parlava così dettagliatamente sia perché appassionava me sia perché sapevo che c'era gente questo gap diciamo da dover colmare sì io lo volevo lo volevo fare impiegavo serate intere a farlo per niente per davvero articoli infiniti che comunque descrivono perché sì c'erano gli highglides su youtube ma non erano così frequenti come adesso bisognava aspettare qualche giorno quindi andavo nei siti andavo a ricercarmi le foto le foto che dovevo catalogare mettere il nostro logo anche se erano loro però ripeto eravamo gli unici a pubblicarle in Italia quindi mettevamo il nostro logo facevo delle galleri con i paragrafi specifici le interviste le classifiche aggiornate di volta in volta e questo è un metodo che ovviamente nel in questo caso nel mondo delle gare è richiesto se adesso non so se più così nel senso sicuramente ci saranno varie ma ci saranno meno informazioni secondo me rispetto al passato tu dici secondo me non è alla fine la gente interessano pochissime cose le interviste sono in pochi che le guardano basta vedere la classifica giusto parlo ovviamente in maniera più dell'appassionato quello più da bar non quello fissato per quello ovviamente ci sono gli approfondimenti fortunatamente quelli mi pare ci siano ancora cosa diversa è invece per esempio nel mondo dei test delle prove vere e proprie i test questi quindi delle nuove moto che escono esatto sono i test che tu ti riferisci esatto io ho lavorato di più nel settore moto che nel settore auto e poi sì nell'ultimo periodo ho lavorato un po' di più con le auto c'è l'ecma a novembre vengono presentate le nuove moto e l'ecma la follia più assurda per un giornalista soprattutto giovane perché ho addirittura raggiunto gli undici chilometri in un giorno avanti e indietro dalla sala stampa a fare le foto a raccogliere il materiale cosa che poi ovviamente loro le case stesse l'hanno capito e quindi ti fornivano il materiale sotto embargo qualche giorno prima così tu dovevi solo premere pubblica ce l'avevi già schedulato quindi partivano da solo te li preparavi prima e quindi avevi più tempo per scoprire le altre novità che venivano presentate in esclusiva all'ecma quel determinato giorno successivamente si aspettava la primavera e il bel tempo per i test i test che generalmente si svolgevano nei paesi un po' più caldi quindi Tunisia Spagna in Italia anche in Italia anche in Sicilia devo dire ricordo una presentazione Kawasaki sull'Etna a dicembre abbiamo beccato un tempo pessimo acqua nebbia freddo c'era la neve su però è stato importante anche per testare la tenuta del motore sì 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 assolutamente anche se non era previsto tutto questo freddo non era previsto perché eravamo abituati appunto ad andare anomala nel mondo del giornalismo motoristico una presentazione a dicembre di solito sono sempre lì partono da marzo fino a giugno poi c'è troppo caldo però sì principalmente si andava in Spagna la Spagna che ho imparato ad apprezzare e conoscere grazie al giornalismo dove ci sono delle strade bellissime panorami bellissimi spesso andavamo anche nelle stesse location in base al brand che ci ospitava certo sì lì una cosa che da giornalista ovviamente c'era chi magari era più fresco come me che ci teneva a raccontarla nel modo più più bello vivace e completo possibile e di intrattenimento agli è possibile ma c'era anche chi come un collega di uno era di Napoli uno era milanese uno mi poteva venire nonno l'altro papà queste persone praticamente venivano lì solo per farsi la vacanza ma io c'ho il comunicato stampa che mi interessa noi la mattina scendevamo con il sottotuta le pantofole facevamo colazione e poi ci andavamo a vestire questo scendeva bello tranquillo con i jeans il mio cassino ma così viene a fare la presentazione ma chi viene a fare la presentazione io me lo sto andando in piscina o mi vado a fare un giro e no non vengo a fare il test io poi lo scrivo quindi lì io c'è anche quest'altro mondo dietro il vecchio giornalismo della vecchia scuola ovviamente dipende dal tipo di moto c'erano alcune più importanti alcune meno importanti diciamo che avevano un'attenzione maggiore quindi sicuramente quello quello sì ma un aspetto che mi ha sempre colpito e che soprattutto all'inizio mi ha lasciato di stucco specialmente con le case giapponesi mi è capitato la prima volta a Roma in una presentazione del nuovo SH nel 2013 e poi anche altre volte delle presentazioni Honda ma anche quelle Yamaha gli ingegneri giapponesi che si vengono a sedere al tavolo con te perché vogliono sapere la tua opinione quella moto è arrivata là dopo e soprattutto quelle giapponesi i giapponesi sono perfezionisti in assoluto basti pensare che molte tecnologie loro sono ancora indietro adesso non più fino a qualche anno fa sì perché funzionava a posto quella non c'è bisogno di migliorarla se la devo migliorare io la faccio completamente da zero e ci metto 20 anni questi sono i giapponesi oggi però non sono più così fino a qualche anno fa nonostante quel prodotto fosse testato e ritestato dai loro testeri in Giappone ma ovviamente poi le grosse case vanno ovunque ovunque ti faceva piacere avere il vostro venivano al tuo tavolo durante il pranzo ti chiedevano scusa e ti disturbavano e volevano le informazioni da te volevano sapere ma il test lo facevi pure tu lo effettuavi tu il giro col motore certo ah ok no certo noi andavamo lì io partivo con un piccolo trolley con i vestiti e poi il borsone con l'attrezzatura dipende ovviamente che moto era a volte il casco fungeva da zaino nel senso che infilavo da dentro tutto quello che potevo e e sì ovviamente noi eravamo i testeri eravamo noi molte volte sempre in base al tipo di mezzo c'era il tester di riferimento della casa madre ricordo vedere come funzionava ricordo una bellissima esperienza anche formativa per me è stata con Alessandro Valia che è il tester ufficiale della Ducati in pista a Ronda in Spagna questa gente è tutta a tua disposizione lui si è messo lì davanti a me come con altri per portarci a conoscere meglio i limiti della moto lui l'ha sviluppata noi magari eravamo un po' più ci tenevamo un po' di più c'era chi se ne fregava e di moto ne sono state distrutte io fortunatamente facendo anche gli scongiuri non sono mai caduto e scivolato durante i miei sei anni da tester se no una stupidissima volta a Palermo con un SH mod sul pavè in piazza Politeama ah vabbè perché l'ho proprio appoggiato a terra sì ma perché era sul 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 diciamo sul pavimento della piazza aveva pure mandava quel grip secondo me il sistema di frenata combinata che tu premi dietro e ti frena pure davanti pregato quello lì la cosa assurda è stata che a farmi quella foto è stato è stato Stefano Taglioni che è il fotografo personale di Antonio Cairole e io pensavo cioè Stefano Taglioni abituato a fotografare il campione del mondo del motocross fa la foto ad Emanuele Macaluso per il motoflog che cade a Palermo con SH di 7 euro quindi però una bella esperienza però non è stato distrutto alla fine è stato appoggiato no 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 quello è quello manco un graffio a differenza di altre moto che i miei colleghi hanno distrutto anche per fare una semplice non è bello da dire un'impennata ecco tu lo facevi ogni tanto qualche impennata cioè sempre certo no c'erano c'erano addirittura in base alle moto le sessioni di impennata va vero per i tester per i tester sì per esempio lì me ne sono pentito me ne sono pentito lì ho un grande rimorso perché non hanno mandato me hanno preferito mandare uno stuntman al tester della prima MT-09 della Yamaha in Croazia però non avresti figurato neanche tu a quanto capisco no lì no però per fortuna perché poi da lì la Yamaha si è un po' trattenuta perché hanno distrutto due moto dei miei colleghi che non sapevano impennare benissimo ma io dove c'era la possibilità impennavo sempre ero tra quelli che impennavano di più non lo fate non lo fate nelle strade nelle strade nelle strade aperte anzi ne approfitto per per ribadire che bisogna stare sempre molto attenti soprattutto con con le moto con la guida qui per strada soprattutto qui non vi fermate al solo insegnamento della scuola guida ok è una grossa è una grossa base è una base importante lo è anche guardare chi come i vostri genitori ha più esperienza o i vostri amici più grandi cosa come si comportano alla guida ovviamente comportamenti corretti cellulare mangiare non avere la cintura non avere la cintura insomma sembrano banalità ma sono possono portarci a salvarci la vita sicuramente avere meno effetti negativi qualora ci fosse un problema quello quello sì però cercate sempre di capire che non siete soli alla guida questa è una cosa che con l'età mi sono sentito addosso è un cambiamento che ho vissuto in pochissimo tempo mentre prima mi sarei lanciato con la moto d'enduro da una discesa senza manco guardare adesso anche se non salgo in sella da un po' ci penso secondo me appena sale però l'adrenalina e l'ignoranza risale sempre sì in determinati punti secondo me in determinati punti secondo me poi meglio non averla se tu pensi quello sì in determinate occasioni sì però ti assicuro che l'età fa fare assolutamente assolutamente comunque dici oh ma non si è vecchio hai 33 anni ma certe cose l'incoscienza dei 20 sicuramente è differente dall'incoscienza dei terzi dai 30 a parità diciamo di prestazione fisica mettiamola in questa maniera sì sì si può tranquillamente dire così grazie per averci dato questa bella testimonianza veramente molto 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 interessante soprattutto quella dei tester che io mi immaginavo che voi le vedevate non che eravate voi da sgummare a vinnare no noi quello che mi farebbe piacere adesso diciamo un attimino affrontare anche diciamo sul giornalismo e sull'importanza diciamo di discernere le informazioni che vengono date perché come hai fatto denotare tu ci sono varie fazioni diciamo del giornalismo sia che nei motori ma molto di più anche in altri in altri dati che danno diciamo delle notizie non veritiere o parzialmente veritiere o parzialmente distorte o completamente distorte ecco quanto è importante diciamo avere un'etica giusta al fine di poter fare questo mestiere prima domanda seconda domanda come fare diciamo per poter intercettare e capire se questa fonte ha ragione o meno allora cioè se è da seguire o meno sono due due punti che è giusto analizzare io non sono un luminare però con la mia esperienza da detto i lavori posso dire la mia allora innanzitutto e ci ho fatto anche poi la tesi di lauree su questo discorso innanzitutto se volete vivere il mondo dell'informazione in maniera proprio personale ed esprimere voi stessi è brutto da dire ma fatelo da soli apritevi un blog apritevi un vlog un podcast un qualcosa che gestiate voi da soli o trovate una redazione che vi lasci liberi di scrivere ciò che pensate perché al giorno d'oggi come ho detto prima tutto deve essere seio friendly nel senso il search engine optimization è ormai l'aspetto fondamentale dietro a qualsiasi tipo di comunicazione questo secondo me vuol dire avere le mani legate sono d'accordo perché siamo da tempo non immaginate che l'intelligenza artificiale sia una cosa nata ieri perché scrivi ti fai i compiti di matematica quando si parlava banalmente l'algoritmo dice questo l'algoritmo già era un large language model il T9 del 3310 bravo bravo ma ancora prima quindi che cosa succede quello che devi scrivere l'ho detto a un algoritmo quello che una redazione deve proporre ai propri lettori ai propri follower è tutto dettato da un algoritmo quindi la domanda che mi sono posto quando ho fatto la tesi per quanto ancora potremmo parlare di libertà di stampa ormai questo capitolo secondo me è chiuso la libertà di stampa è un aspetto nuovo che qualcuno si dovrà reinventare per essere autonomo per poter parlare delle proprie cose in maniera autonoma purtroppo se una redazione vuole dei numeri sei tranquillo che non ti lascerà libero di esprimerti ma secondo te siamo più schiavi della diciamo di un'informazione centralizzata e quindi dettata un po' sull'esempio di quello che è successo a Gali per Sanremo e quindi gli hanno fatto dire poi scusa questo ci fa capire quanto l'informazione sia veicolata e pilotata o diciamo siamo più schiavi del del SEO secondo te quali sono i due mali peggiori sono due cose diverse nel senso purtroppo come è accaduto per Gali a Sanremo lì va ad influenzare molto anche l'aspetto politico certo che comunque la RAI è fatta di politica certo e quindi lì vai contro le il pensiero politico di altri esprimendoti con l'informazione quella più comune vai invece a scontrarti contro gli algoritmi quindi mentre da un lato te la puoi giocare con argomentazioni che vanno comunque a sfoggiare nella politica dall'altro hai le mani legate quindi tu dici in base allo strumento cambia il pilotatore se tu fai dei blog sei nell'ambiente internet comunque hai bisogno più del SEO se sei in un ambiente televisivo sei più diciamo veicolato dai poteri forti se posso un attimino diciamo fare la sintesi è questa una sintesi ma perché perché comunque sul web hai la necessità di essere tra i primi risultati sempre il SEO fa quello in tv no la tv è quella alla fine abbiamo sempre mille canali ma sempre i disegni italiani soprattutto i primi tre la RAI ha il suo pubblico vuoi o non vuoi è quello quindi lì sei soggetto al pensiero di qualcuno su internet no e vengo alla seconda domanda che mi facevi ovvero quanto è attendibile una notizia o voi possiamo fare noi per capire l'attendibilità di una notizia allora ormai diventa molto difficile io anche quando facevo il giornalista non mi fermavo mai al comunicato stampa che mi mandava alla casa molti facevano copia e incolla mettevano una foto diversa o la stessa foto ed era pubblicato io non solo lo rielaboravo ma andavo a cercare il fat checking il cosiddetto fat checking degli aspetti da ricollegare o per allungare un po' di più e rendere più ricco l'argomento o comunque per aggiungere delle chicchie che qualcuno non aveva inserito per differenziare il mio prodotto finale oggi è molto difficile quello che potete sicuramente fare è andare a confrontare più fonti anche se è un aspetto da non trascurare è il fatto che ormai ha preso piede l'intelligenza artificiale la censura delle fonti può essere o meglio l'indicizzazione di quelle informazioni rispetto ad altre che ti fanno vedere può narrare la storia in maniera diversa e quindi indicandoti una strada rispetto a un'altra dici tu allora sicuramente tutti cercheranno sempre di uniformarsi a un solo messaggio sono in pochi quelli rimasti nel mondo dell'informazione che mettono della farina del proprio sacco all'interno di un articolo o di un di un post un semplice post anche su instagram o facebook e tutti cercheranno sempre di veicolarci verso l'informazione di massa quindi la notizia è partita così tutti ne parlano in questo modo e noi ne parliamo pure in questo modo non ne possiamo parlare in un altro perché altrimenti non ci legge nessuno quindi diventa molto difficile soprattutto ti dicevo perché ormai ha preso piede l'intelligenza artificiale anche a supporto di copy copyright anche a supporto di chi scrive perché giustamente le redazioni ti chiedono sempre numeri più frequenti non puoi andare con l'input di dieci parole ne generi ottocento manue gli dai una revisione quanto tempo hai risparmiato io ragionavo questo è diventato ormai secondo me uno si vuole informare su qualcosa quello che trovi ti posso dire una cosa io personalmente ho iniziato il format del podcast proprio perché vedo che anche in altri podcast che seguo in maniera importante di macroeconomia di pensiero progressione personale e un po' di tutte le innovazioni tecnologiche che ci sono in base a qual è l'argomento specifico sono i contenuti più veri che riesco a trovare perché diciamo non puoi alterare la mimica facciale di uno che ti sta raccontando una cosa capito e poi neanche puoi alterare quello che lui sta dicendo e per come lui lo vuole dire quindi da lì c'hai una fonte reale che poi quelle informazioni possono essere sbagliate possono essere distorte però sicuramente sono dette da quella persona capito e questo diciamo è uno uno degli strumenti secondo me dei podcast molto 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 importanti a cui poter fare veramente un grande affidamento perché ormai ci sono podcast su qualsiasi argomento capito cioè un ginnecchio noi qua magari lo facciamo più il positive cast si pone l'obiettivo di dare parole diverse raccontare esperienze di vita per poter creare diciamo un ambiente più proattivo più stimolante di persone che vogliono avere diciamo una voglia e volontà di mettersi in gioco creare modellare migliorare la propria vita e quelle di quelle che gli stanno intorno questo è il fine ultimo ma ce ne sono tanti altri diversissimi diciamo argomenti che secondo me questi qua ad oggi più del giornalismo di come noi lo intendiamo ancora di più da come tu ci hai raccontato con questi diciamo dinosauri dietro che ci sono che ancora vanno diciamo a creare melma come ti posso dire massa densa di persone che purtroppo diciamo non vogliono migliorare la comunicazione secondo me ci andremo sempre un po' più scendendo dal giornalismo è più andando in una tiktok tiktoktification della nostra dell'informazione ossia l'informazione nuda e cruda di come di come succede magari tramite video di persone che l'hanno fatto che non li presenti tramite racconti imminenti tramite racconti anche di persone di altri stati io molto spesso quando c'è un'informazione vado ad ascoltare cosa dicono in Francia cosa dicono in Arabia cosa dicono in Indonesia cosa dice il Jazeera cosa dicono in Colombia in Brasile perché perché diciamo avere un'altra prospettiva su un unico fatto mi può dare degli spunti di riflessione e capire anche come viene interpretata in altri modi differenti rispetto al nostro al fine di poter diciamo avere una maggiore awareness una maggiore diciamo come ti posso dire un maggiore discernimento o meglio una maggiore comprensione di quello che succede intorno e su qual è la vera la verità in quella in quella notizia e TikTok diciamo per me è diventata la primaria fonte di fact checking perché io appena vado a vedere ci sono già i primi 20 argomenti di quelli che vado vado a trattare già lì si va a vedere se sono fake news o persone o persone vere in base a quanti ne riparlano e poi di solito dopo aver individuato qual è la fonte diciamo che io reputo più attendibile o anche più di intrattenimento perché non per forza diciamo i contenuti devono essere anche un piacere condividere quel tempo appena riesco a individuare diciamo quella persona poi mi sposto sull'on content perché sicuramente diciamo c'è una maggiore libertà nell'utilizzo delle parole e anche sotto alcuni punti di vista una maggiore una maggiore verità cosa ne pensi sotto questo punto di vista Vanè? sì assolutamente alla fine siamo soggetti a miliardi di informazioni che provengono da tutte le parti ma come ti dicevo purtroppo sono sempre veicolate per veicolarti bravo bravo ti devono indirizzare per forza in un determinato punto e quello che possiamo fare per se ci teniamo davvero a sviluppare il nostro punto di vista su un determinato argomento è quello di documentarci da più fonti possibile per appunto evitare che di cadere in questo in questo loop che che ci porta a vedere alla fine sempre le stesse cose come qualcuno vuole vuole farci vedere con questo non voglio dire che ci sono i poteri forti i complottisti ma ci sono ci sono c'è sempre qualcuno che che ci tenta però ovviamente grazie alla tecnologia e alla connessione le interconnessioni mondiali noi abbiamo la possibilità di spaziare solo se lo vogliamo chi dice no ma io ci ho provato però vuol dire che non si è impegnato si è impegnato appieno a raggiungere quell'obiettivo assolutamente Manuel è stata veramente grazie per aver condiviso con noi tutti questi aspetti tecnici ed averci aiutato diciamo a comprendere e ad analizzare un nuovo aspetto diciamo del giornalismo quello dei motori ma anche un po' quello dell'informazione alla fine un po' in generale che è stato veramente molto 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 interessante e importante e che sicuramente lascerà degli ottimi spunti di riflessione adesso ci avviamo alle fasi conclusive tu hai visto anche già qualche altra puntata quindi già sai che adesso rompiamo tutti gli schemi del nostro positive cast il microfono il microfono è il tuo puoi andare a ruota libera c'è qualcuno che vuoi salutare qualche appello da fare qualche cosa che vuoi dire prego allora io ovviamente ti ringrazio perché è sempre sempre un piacere fare una bella chiacchierata e ovviamente esprimersi e raccontare le proprie esperienze soprattutto se il fine ultimo è la divulgazione condividerle con tutti affinché qualcuno possa possa sviluppare una nuova passione nuovi interessi e essere magari ispiratore nel proprio piccolo di qualcosa di importante per altre persone voglio semplicemente ricordare a tutti che è importante seguire i propri sogni i propri obiettivi e se c'è una piccola idea visto che ormai la tecnologia è a nostra completa disposizione sotto ogni aspetto e anche a qualsiasi livello economico così come Giuseppe ha creato questo podcast in maniera anche professionale con poco se vogliamo perché insomma abbiamo degli strumenti abbiamo anche un cameraman che purtroppo è quello che è salutiamo il grande Gabriele Mangione sempre dietro le quinte che è uno degli esempi di ragazzi intraprendenti che vogliono esprimersi anche attraverso una passione che è nobile per me quella della ripresa quella del filming e anche delle foto così come stiamo creando questa puntata insomma non vi fermate davanti a nulla create anche voi l'idea che avete mezzato durante la notte prima di andare a letto o mentre eravate sopra pensiero a scuola e tante volte io per esempio a scuola mi venivano in mente così non stavo attento alle lezioni di greco e magari mi stavo creando il percorso per fare un giro in moto pomeriggio ma anche per una canzone da proporre alla band da portare in sala prove o ad altre idee tipo di modifica da applicare a uno scooter le idee sono ciò che anche le più stupide sono quelle che ci portano ad acquisire esperienza conoscenza ci aiutano a sviluppare la nostra creatività e perché no anche portarci ad acquisire davvero delle esperienze importanti e anche degli aspetti che potrebbero fare tranquillamente potrebbero tranquillamente farsi fare un salto grosso di qualità nella nostra vita quindi non fermate mai la vostra creatività e siate sempre affamati di nuove esperienze e io dico che è questo che ha appena detto Manuele io lo firmo e lo sottoscrivo e aggiungo che non c'è un'età per poter applicare le proprie idee noi a qualsiasi età sicuramente possiamo immaginarci una cosa e metterla in pratica e mi auguro veramente che molte più persone come dici tu si immaginano una cosa e la realizzano perché alla fine veramente secondo me il pagamento da queste cose che ci immaginiamo e realizziamo va oltre tutti i pagamenti che possiamo avere o meglio la pagamento è maggiore di tutti i pagamenti che possiamo avere cari amici grazie Emanuele per aver risposto affermativo e presente a questa mia chiamata già ne avevamo parlato tempo fa finalmente l'abbiamo registrata grande chiacchierata veramente con una grande persona dalla moralità e dai valori solidi come l'Everest come una grande montagna e noi abbiamo bisogno di più persone con questa grande moralità con questi grandi valori e che siano di esempio per questi nuovi giovani ma anche per quelli meno giovani più grandi di noi per poter diciamo dare un approccio di vita alla vita in maniera diversa che dirvi cari amici io vi ringrazio come sempre di essere arrivati fin qui siete le persone straordinarie vi voglio bene siete i miei eroi e io vi dico cari amici alla grande grazie a tutti